Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Non è ancora arrivato nulla. Siamo finendo. Vedo cosa. Siamo d'accordo. 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 La prima cosa che faremo è avere il saluto dell'università che ospita questo convegno che è stato organizzato con la stretta collaborazione dell'ordine degli ingegneri della provincia di Parma e che però, come tutti avete visto, è patrocinato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lascio per un saluto e la parola al magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma, Professor Loris Borghi. Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti in questa Aula Mania che è sempre di più un'aula degli studenti. Chi mi conosce sa quanto sia la mia attenzione verso la centralità dello studente nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca di un ateneo. Questa è un'aula quindi degli studenti. Siete ospitati nell'aula mania degli studenti dell'Università di Parma. Io ringrazio molto, non vi farò perdere tempo perché è solo un saluto, ma non è semplicemente un saluto istituzionale, doveroso, ma vuole essere anche qualche cosa di più. Io ringrazio molto la professoressa Montrasio, persona molto attiva da tanti punti di vista e che perseguita letteralmente quando organizza qualche cosa le persone che devono essere coinvolte in un'organizzazione con dei risultati comunque splendidi, come splendida quest'aula che contiene tante persone importanti. Consentitemi però di ringraziare, e devo leggere i loro nomi perché li ho conosciuti in questo momento. L'onorevole Umberto del Basso De Caro, sottosegretario di Stato, Infrastrutture e Trasporti. Ingegner Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Dottor Carlo Deodato, Consigliere del Consiglio di Stato. L'Avvocato Francesca Ottavi, Direttore Legale e Opere Pubbliche dell'Ance. Acilia Elisabetta D'Antonio, Consigliere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. E il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Parma, Angelo Tedeschi, che è l'unica persona che io conosco da un po', perché già da tempo abbiamo instaurato dei rapporti di collaborazione. Tra le cose che una università pubblica deve fare, oltre a pensare all'alta formazione, cercare di fornire per la società persone laureate di qualità nei diversi ambiti, nelle diverse discipline di cui la società ha bisogno, oltre alla ricerca che sottintende, nello studio continuo che sottintende ovviamente come ingrediente fondamentale l'alta formazione, noi ci siamo dati, ma non solo noi a Parma, ormai tutte le università italiane, si sono date una terza missione, che è quella di mettere a disposizione il proprio know-how per la società, per l'esterno, che è molto ricco, devo dire, a Parma come è ricco in tutte le università italiane, e nel contempo ricevere dal cosiddetto territorio, ricevere dall'esterno, dalle conoscenze, delle esperienze esterne, apporti fondamentali per lo sviluppo anche delle conoscenze, anche degli stessi studenti. Quindi il ringraziamento particolare a queste persone che ho citato e che sono qui presenti, è proprio per il fatto che ci aiutano in questo momento, in questa giornata, in questo particolare aspetto della nuova legge sugli appalti, ci aiutano a crescere, ci aiutano a capire di più le cose, e questo può essere estremamente utile per trasmetterlo poi anche ai nostri studenti. E c'è una cosa che è veramente importante da questo punto di vista, cioè è la sinergia di queste conoscenze. Noi oggi siamo un po' abituati, ci siamo un po' abituati nell'era moderna, che tutto sembra facile, tutto sembra semplice, tutto sembra portata di un click, di un computer o di una notizia messa in rete. Invece le cose sono molto complicate, sono molto complesse. E per amministratori tipo, per esempio, un rettore, pensate che io fino a tre anni fa, prima di diventare rettore, ho fatto il professore universitario di medicina, ho fatto ricerca, ma non ho avuto una formazione specifica per quanto riguarda tanti aspetti di gestione di una grande azienda, come può essere quella di un'università pubblica. Quindi c'è un bisogno da parte nostra di ricevere dalla professionalità esterna, dal mondo esterno, tutta una serie di indicazioni, di approfondimenti e uniti ai nostri sforzi di conoscenze, portare quindi a evolvere dal punto di vista anche della preparazione degli studenti. Quindi il ringraziamento a questo tavolo importante, soprattutto per l'apporto che darete attraverso di noi agli studenti della nostra università. Grazie davvero a tutti di aver accettato questo impegno. Grazie, magnifico rettore. Proseguiamo celermente con l'apertura dei lavori e passo la parola all'onorevole Umberto del Basso De Caro, sottosegretario di Stato all'Infrastruttura e ai Trasporti, che l'anno scorso, un anno fa, aveva partecipato a un convegno sulle nuove norme tecniche per le costruzioni, che erano in iter attuativo e lo sono tuttora, ma in dirittura di arrivo ritengo, ormai, e aveva promesso di ritornare a dare notizie sull'iter e su invece la novità che sarebbe stata il codice degli appalti l'anno dopo. È difficile trovare un politico che sia così puntuale nel rispetto di quanto promesso, sia dal punto di vista della realizzazione dei risultati che dalla sua presenza reale nel manifestarli. E quindi io lo ringrazio come cittadino, lo ringrazio come invece docente universitario dell'Università di Parma, organizzatore di questo convegno, perché darà modo di avere il punto su come, più che il punto, le ragioni che hanno mosso questo nuovo codice dal punto di vista politico, è quello che poi ha fatto a cascata ricadere tutto il resto del convegno che noi verrà a seguire. Vi lascio la parola e grazie. Grazie per l'invito che cortesemente avete voluto rivolgermi per la seconda volta. Sono molto felice di essere in mezzo a voi nella stessa Aula Magna, dove l'anno scorso ci siamo intrattenuti sulle norme tecniche di costruzione. E l'iter, come sapete, è concluso. Così come è concluso, almeno nella impostazione iniziale, l'iter del codice degli appalti. Ci sono i decreti attuativi. Alcuni sono già stati, hanno già ricevuto il parere del Consiglio di Stato. tre per l'esattezza, per quanto di competenza del Ministero delle Infrastrutture. In tutto sono quattordici. E quindi sono in fase di avanzata gestazione altri undici. Io dico la verità, è complicato illustrare in maniera sintetica i principi che hanno ispirato il legislatore nella stesura del nuovo codice dei contratti pubblici. Sarebbe però, d'altra parte, molto afflittivo parlare per due ore. Non solo farei torto al tavolo, ma farei torto alla pazienza. Quindi ho cercato di sintetizzare al massimo il mio intervento e allegando, poi lo metto a disposizione per chi lo volesse, insomma, magari con delle copie, una tavola sinottica degli interventi attuativi del codice di contratto che sono di competenza e del Ministero di Infrastrutture e di ANAC. Con la premessa che ho detto poc'anzi, che allo Stato i decreti di competenza del Ministero di Infrastrutture sui quali è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato sono tre. Il primo ha ottenuto il parere il 21 ottobre 2016 e riguarda individuo alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richieste per la loro esecuzione. In sostanza è l'articolo 89,11. Il secondo, che ha ricevuto il parere del Consiglio di Stato il 3 novembre, pochi giorni or sono, approva le linee guida sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione predisposte da ANAC. Il terzo, di pari data, 3 novembre pure, definisce i requisiti. Il secondo è l'articolo 111 del Codice Appalti. Il terzo, articolo 24,2 e 5, definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e la individuazione dei criteri per garantire la presenza dei giovani professionisti in forma singola o associata nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incariche di progettazione, concorsi di progettazione e di idee. Questi sono i tre già approvati. Altre sono esattamente 5 decreti di competenza del MIT in via di definizione, sui quali non è stato ancora acquisito il parere del Consiglio di Stato. Ed infine ve ne sono 6, parlo sempre della competenza del mio Ministero, sono 14 quelli individuati su 70, sono nella fase ancora della istruttoria e quindi non sono ancora pronti. Ora, è un tema complesso perché la razio legis, come gli operatori del diritto sanno, molte volte nella concreta applicazione nel decorso del tempo e fatto un rodaggio iniziale che noi stiamo facendo si registra se viene tradita o viene confermata. E quindi mi pare troppo presto, dal 19 aprile ad oggi, dire se quella intenzione del legislatore sia confermata. Mancano ancora i decreti attuativi. Io posso dire, per la esperienza quotidiana, l'ingegnere Sessa, che il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici lo sa assai meglio di me, che la prima difficoltà interpretativa ce la siamo poi concretamente ritrovata sull'articolo 214,11 sulla disciplina transitoria. Perché naturalmente bisognava comprendere in quale misura gli atti procedimentali caduti sotto l'imperio del vecchio decreto legislativo 163 potessero essere salvati. Dico questo perché non sono sovrapponibili neanche temporalmente. Capite bene che se poi bisogna ricominciare da capo la conferenza dei servizi o se le procedure espropriative che sono diverse nel nuovo codice e bisogna adeguarle tutte al nuovo codice e insomma diventa un problema di tempi. E quindi diventa un problema che è in collisione con la razio legis che sarebbe stata ed è indiscutibilmente quella di accelerare le procedure dei lavori pubblici. Guardo alle maggiori stazioni appaltanti d'Italia ANAS e ferrovie dello Stato rispetto alle quali il Ministero Infrastrutture è sorvegliante. vi è una evidente e notevole contrazione degli affidamenti che deriva proprio dalla difficoltà ermeneutica delle prime settimane. Questo è fuori di ogni discussione. Capiamo ancora meglio che nella incertezza applicativa sono ben pochi quei dirigenti che giustamente riescono a mandare avanti un contratto una gara di appalto se non hanno come si dice la copertura di circolari e noi siamo riusciti a fare questo attraverso ANAC e attraverso il Cipe con circolari interpretative che hanno finalmente messo un minimo di chiarezza rispetto poi ai dirigenti che concretamente dovevano poi decidere come mandare avanti i lavori è molto importante perché insomma quando discutiamo e ci appassioniamo al tema del PIL per cui noi diciamo 0,7 in più magari qualche altro qualche altra autorità come il Fondo Monetario ci dice no è 0,6 o l'Europa ci dice un'altra cosa ancora in realtà il PIL deriva esattamente da questo noi abbiamo stazioni appaltanti che valgono 9 miliardi di euro l'anno parlo di ANAS e di RFI ed è del tutto evidente che ogni punto di PIL vale circa 17 miliardi capite come questo discorso sarebbe agevolmente superabile se riuscissimo appunto a produrre ricchezza oltre alle altre ragioni che intorno ad un'opera pubblica ad un appalto si registrano per tutto ciò che muove la storia dei lavori pubblici nel nostro paese ed in tutti i paesi nel nostro forse più che in altri perché il settore dell'edilizia e dei lavori pubblici è stata sempre una componente molto forte della nostra economia quindi l'argomento è di grandissimo di grandissimo interesse sociale non soltanto per il settore che quotidianamente diciamo deve misurarsi con la nuova con la nuova normativa e la nuova normativa che appunto nasce dalla necessità di ricepire tre direttive comunitarie la 23 24 e 25 del 2014 sulla aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua dell'energia dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e fornitura ora questi principi che appunto hanno ispirato il legislatore nella stesura del decreto legislativo 50 del 2016 appunto chiamato nuovo codice dei contratti pubblici che è in vigore dal 19 di aprile anzi dal 20 vi fu una circolare interpretativa ANAC ulteriore che stabilì dal 20 sono particolarmente innovativi non esenti da critiche una volta che il codice sarà completato con gli atti attuativi ed io vi ho detto qual è lo stato dell'arte dovrebbe assicurare una maggiore capacità delle stazioni appaltanti di gestire la fase di gare e di esecuzione in modo efficiente trasparente tempestivo con una maggiore qualità degli operatori economici ora i principi che assumono particolare rilevanza sono quelle della qualificazione delle centrali di committenza i commissari di gara esterni iscritti in un albo gestito da ANAC la completa informatizzazione delle procedure la qualificazione degli operatori economici nel cui ambito viene incluso il rating di impresa affidato a criteri reputazionali ancora è rilevante l'intervento sulla separazione tra chi progetta e chi esegue i lavori sulla tassatività delle varianti in fase di esecuzione mi pare questa la più nobile delle intenzioni del legislatore sappiamo bene la storia delle varianti nel nostro paese cosa abbia prodotto ancora sulla eccezionalità della aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ora la legge delega ed il codice hanno avuto di mira non soltanto gli obiettivi di efficienza e di trasparenza ma anche quelli di sostenibilità ambientale sociale occupazionale di qui una serie di regole volte a favorire per esempio la partecipazione di micro imprese piccole e medie imprese appalti riservati a determinate categorie di operatori e quindi abbiamo un insieme di regole sulla suddivisione obbligatoria degli appalti in lotti sugli appalti di servizi sociali sugli appalti sotto soglia tra i principi che ora ho richiamato senza altro merita una particolare attenzione la disciplina della qualifica delle stazioni appaltanti e senza dubbio rende questo codice nuovo si è introdotto in sostanza un principio essenziale secondo il quale gestire una procedura di appalto non è un compito amministrativo indifferenziato che può essere eseguito appunto da una qualsiasi amministrazione pubblica solo per la sua natura di essere amministrazione pubblica ma invece è una funzione specializzata che richiede il possesso di requisiti specifici e fra questi innanzitutto direi lo sviluppo di una cultura non solo giuridica ma anche professionale economica e tecnica misurata e calibrata sulle dimensioni delle gare sulla qualità e natura dei beni o delle prestazioni da acquisire o delle opere da realizzare le stazioni appaltanti per qualificarsi dovranno essere in grado di mostrare la loro capacità di programmare le proprie esigenze di definire progetti di individuare specifiche tecniche di determinare e poi verificare la qualità delle prestazioni e di controllare l'esecuzione che è elemento fondamentale per assicurare il buon esito della gara non solo sul piano procedurale ma sul piano sostanziale si moltiplicano anche nel nuovo codice le regole e le tipologie di procedure di gara il che richiede come è del tutto evidente una maggiore competenza in capo alle stazioni appaltanti le nuove norme attribuiscono maggiori discrezionalità e capacità di scelta alle amministrazioni pubbliche su molti diversi elementi dal tipo di procedura ai criteri di aggiudicazione dai criteri di selezione alla definizione del rapporto concessorio favorendo la riduzione delle stazioni appaltanti attraverso l'aggregazione e la centralizzazione degli acquisti ma il problema centrale è la esistenza ed ancor più la costruzione della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti che sorregga scelte discrezionali attendibili e quindi tecnicamente fondate evidenzio tre principi che sono ispirati alla esigenza di semplificazione e di deflazione anche del contenzioso la valorizzazione degli arbitrati quali metodi di risoluzione delle controverse alternative al rimedio giurisdizionale il potenziamento dei poteri cautelari del giudice amministrativo all'interno del rito abbreviato dedicato agli appalti la separazione del contenzioso relativo ai requisiti che devono essere posseduti dalle imprese dalle controversie riguardanti l'aggiudicazione diviene infatti obbligatoria la impugnazione dei provvedimenti di esclusione e di quelli di ammissione alla gara entro 30 giorni dalla loro adozione ed i relativi vizi non potranno più farsi valere in sede di contestazione della aggiudicazione ora procedura attuativa linee guida ho accennato prima una delle principali innovazioni vado per titoli perché io avevo preparato un altro tipo di contributo molto più lungo mi rendo conto che non è possibile però pregherò la professoressa Montrassi poi di fare qualche copia perché mi pare significativo una scuola sinottica dei decreti attuativi mi pare molto chiara sono stato aiutato dagli uffici non sarei stato io capace di farla una delle principali innovazioni del nuovo codice è l'abrogazione del regolamento 207 del 2010 regante una molteplicità di norme di dettaglio aggiungo non sempre necessarie la seconda principale innovazione riguarda le norme di attuazione del decreto legislativo 50 del 2016 necessarie invece per la piena operatività stante il carattere tecnico di molte fatti specie si tratta di una parte assai originale che costituisce un sistema nuovo di disciplina sub-legislativa segnalato dal Parlamento dal Governo e da ANAC come un modo flessibile per regolamentare fenomeni complessi ed indivenire la scelta del legislatore di superare il modello del regolamento esecutivo dando attuazione al codice mediante linee guida atti di indirizzo oltre ai decreti ministeriali costituisce pertanto una scelta politica di flessibilità rispetto ad un modello di iperregolazione di dettaglio consiglio di stato nel parere reso sul decreto legislativo 50 del 2016 credo che il parere sia del primo di ottobre consigliere di quest'anno ha individuato gli atti attuativi del codice 14 decreti del ministero infrastrutture 15 decreti di altri ministeri 15 atti ANAC per lo più denominati linee guida e 6 dpcm in particolare il codice assegna allo strumento delle linee guida proprio in quanto più agile del regolamento un compito strategico ed essenziale nella definizione delle discipline normativa secondaria relativa ad aspetti determinanti del regime delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici il codice non prevede una particolare forma né una precisa formulazione delle linee guida conseguenza è stato ritenuto che siano soggette alle regole procedurali delle autorità amministrative indipendenti tra cui la fase di consultazione preventiva l'obbligo di verificare l'impatto della regolamentazione un'adeguata pubblicità la raccolta progressiva delle linee guida in testi di compilazione pur nella estrema eterogeneità dei diversi modelli il Consiglio di Stato ha classificato tre tipologie di linee guida quelle approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti qualificabili come regolamenti ministeriali in ragione della loro pacifica natura normativa quelle vincolanti che sono adottate dall'ANAC ma non approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di problematica catalogazione e quelle non vincolanti sempre adottate da ANAC ma da valersi quale atti amministrativi generali al pari delle circolari contenenti istruzioni operative sull'applicazione della normativa di riferimento queste ultime appunto come ho riferito non sono vincolanti ora per quanto riguarda le linee guida vincolanti adottate dal Ministero si tratta appunto di regolamenti ministeriali soggetti alla disciplina dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 con la conseguenza che resistono alla abrogazione da parti di fonti sottordinate e possono essere disapplicate dal giudice amministrativo come i decreti ministeriali previsti dal codice alcuni di questi regolamenti vengono adottati su proposta o previo parere dell'ANAC determinando una inedita commistione fra la potestà regolamentare ministeriale e l'attività di un'autorità indipendente per esempio è esempio di quello che ho detto le linee guida sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione l'articolo 111 un esempio è costituito appunto dal decreto del 111 del codice dei contratti relativo all'attività appunto del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione questo decreto del Ministero delle Infrastrutture approva le linee guida che individuano le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori ed il direttore della esecuzione svolgono il controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto provvedimento in esame è adottato su proposta dell'ANAC quale autorità preposta al settore dei contratti pubblici previo parere delle competenti commissioni parlamentari sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici in tal modo si rafforza il procedimento prescrivendo in aggiunta e nell'evidente considerazione della importanza e della delicatezza della materia il parere delle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto si compone di due soli articoli il primo approva le linee guida che vengono riportate in due allegati al decreto uno dispone le abrogazioni in tal guisa sul piano formale si ha un ibrido in cui il decreto ministeriale ancorché sintetico ha la forma esteriore tipica di un regolamento diviso per articoli mentre le linee guida allegate hanno una struttura discorsiva l'approvazione è l'atto con cui il ministro delle infrastrutture fa propria la proposta di ANAC con un potere di decisione che può implicare anche la modifica della proposta medesima la direzione dei lavori pubblici che le linee guida in esame si prefiggono di disciplinare costituisce un aspetto molto delicato ed importante della materia dei contratti della pubblica amministrazione la direzione dei lavori nei contratti pubblici si pone infatti al crocevia di moltiplici obiettivi fissati a livello normativo primario con riguardo alla fase di esecuzione dei contratti dalla efficienza e dall'efficacia nell'impiego di risorse finanziarie pubbliche alla qualità e fruibilità collettiva delle opere ed inoltre al contrasto al fenomeno fenomeni corruttivi e collusivi nel merito giova evidenziare che nel previgente codice il direttore della esecuzione del contratto era una figura omnicomprensiva che includiva cioè il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione di contratti di servizi e fornitori ai sensi dell'articolo 119 del previgente decreto 163 del 2006 nel codice attuale invece il direttore dell'esecuzione del contratto è appunto figura distinta dal direttore dei lavori e si riferisce evidentemente ai contratti di servizi e di forniture quindi è il riferimento al comma 2 del 111 non mi intrattengo sulle linee guida vincolanti adottate da ANAC né su quelle non vincolanti ma piuttosto sui decreti ministeriali ulteriormente previsti dal nuovo codice decreti ministeriali qualificati come atti sostanzialmente normativi dotati dei caratteri della generalità della strattezza della innovatività soggetti allo statuto proprio dei regolamenti ministeriali si caratterizzano per la potestà di iniziativa o consultiva riservate in molti casi all'ANAC autorità di regolazione con una natura giuridica che è assai diversa dai ministeri statali l'esempio ci viene dall'articolo 24 dal decreto sui servizi relativi all'architettura e all'ingegneria tra i decreti ministeriali che sono di competenza del MIT e da adottare sentito ANAC si segnala proprio il provvedimento di cui all'articolo 24 che definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria tenendo conto delle specificità delle singole categorie professionali i vi comprese quelle non in possesso di laurea come appunto i geometri che comunque partecipano all'attività di progettazione il provvedimento contiene anche norme volte a favorire la presenza di giovani professionisti nella attività indicata garantendo anche per i medesimi la necessaria competenza esperienza e professionalità e a tale riguardo devo evidenziare che le linee guida ANAC la numero 1 del 2016 precisa che nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti vale a dire un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di Residenza nei gruppi concorrenti inoltre le linee guida ANAC numero 2 del 2016 raccomandano al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate quanto all'iter seguito nella predisposizione dello schema di decreto il Ministero ha svolto attraverso la interlocuzione posta in essere non soltanto con ANAC ma anche con i principali stakeholders un'attività istruttoria che ha consentito di disporre di adeguati elementi conoscitivi per intervenire sulla materia di cui stiamo discutendo il Ministero il Ministero ha infatti proceduto ad una serie di consultazioni che hanno coinvolto il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati l'Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria e Consulenza Tecnica Economica l'OICE che hanno formulato le proprie osservazioni è stato inoltre acquisito così come il codice prevede il preventivo parere ANAC che attraverso l'organo deliberante si è espressa favorevolmente sul decreto di cui discutiamo proponendo una integrazione al testo regolamentare concernente la necessità di prevedere un riferimento ai requisiti che i professionisti di altri Stati membri devono avere per partecipare alle procedure di gara per l'affidamento di incarichi tecnici e questo il decreto di cui all'articolo 89 quello relativo alla individuazione delle opere cosiddette super specialisti segnalo inoltre il decreto relativo alla individuazione delle opere super specialistiche appunto predisposto sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici acquisito il parere del Consiglio di Stato e definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture impianti e opere speciali nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione tale decreto individua in particolare le opere per le quali in ragione della complessità tecnica di ciò che va realizzato non è ammesso l'avvalimento qualora il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori e per le quali l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere senza obiettive ragioni evidentemente suddiviso io concludo rapidamente come avevo promesso e appunto desidero dire che i principi che hanno ispirato il legislatore nella stesura del decreto legislativo 50 del 2016 nonché la procedura attuativa da esso prevista contribuiscono a delineare un codice nuovo dei contratti pubblici in grado auspicabilmente di favorire la crescita economica e sociale del paese e nel rispetto dei diritti di libertà dei cittadini sul versante applicativo sembra evidente che il legislatore delegante una volta fissati i canoni di semplificazione dell'ordinamento giuridico settoriale e dei procedimenti di gara di riduzione dello stock delle regole di accelerazione delle procedure di rafforzamento della vigilanza dinamica abbia anche voluto prevedere uno strumento attuativo del codice che coniugasse la natura regolamentare stante la generalità e la astrattezza delle regole con la flessibilità dello strumento in modo da addivenirsi sia ad una rapida adozione sia da poterlo rapidamente modificare ove ciò si rendesse in futuro necessario il legislatore delegante ha inteso pertanto flessibilizzare il procedimento di formazione degli atti attuativi prevedendo una inedita l'ho detto prima commistione fra la potestà regolamentare ministeriale e l'attività di ANAC che è un'autorità indipendente con funzione di vigilanza e di regolazione accanto al modello di amministrazione pubblica contemplato dalla Costituzione fondato sulla tra virgolette concezione governativa che attribuisce agli organi politici le funzioni di indirizzo politico amministrativo e agli organi dirigenziali le funzioni di gestione di attuazione trova applicazione il modello che non è escluso dall'ordinamento fondato sulle autorità indipendenti che agiscono con poteri neutrali di attuazione della legge e non anche degli atti generali di indirizzo politico in alcuni casi il codice in ragione dell'elevato tecnicismo dell'ambito di intervento si è limitato a definire lo scopo soltanto da perseguire lasciando poi un potere molto ampio e molto implicito all'ANAC di sviluppare le modalità di esercizio del potere stesso attraverso l'adozione di linee guida vincolanti in questo caso in altri casi il codice nel caso appunto delle linee guida non vincolanti si è limitato ad autorizzare con previsione generale l'esercizio del potere amministrativo dell'ANAC al fine di garantire come è scritto nell'articolo 213 la promozione dell'efficienza della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogenità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche attraverso l'adozione di atti di soft law appunto linee guida non vincolanti io avrei potuto intrattenervi per molto tempo per la verità mi sono limitato a una sintesi l'ho detto prima perché è un codice corposo si ha voglia a dire misurando il numero degli articoli ma il numero è inferiore al precedente beh la consistenza non mi pare inferiore al decreto 163 ma in ogni caso siamo nella prima fase quella dell'applicazione di una materia nuova che è stata disciplinata in modo fortemente innovativo attraverso un lavoro parlamentare che è durato circa due anni ed è una novità che certamente dovrà io mi auguro in un futuro non molto lontano dare segni visibili di quella razio che ha ispirato il Parlamento appunto da un lato di migliorare la efficienza della pubblica amministrazione delle stazioni appaltanti dall'altro dare come dire impulso alla nostra economia questo è stato ciò che ha spinto governo e Parlamento alla definizione del nuovo codice appalte oltre naturalmente all'obbligo di adeguamento alle direttive comunitari che scadevano il 18 di aprile il giorno prima appunto della entrata in vigore io sono convinto che insomma poi potremo fare aggiornamenti negli anni a venire con altri non con me o anche con me ma insomma sono convinto che gli effetti del nuovo codice dei contratti pubblici saranno sicuramente percepiti come effetti benefici da parte degli operatori ma da parte della nostra società ringrazio il sottosegretario di stato all'infrastruttura e ai trasporti per questa sintesi splendida che ci ha illustrato sia i principi che hanno ispirato il legislatore ma è entrata anche nel merito tecnico legislativo sulla struttura del nuovo codice chiarendolo direi in maniera inequivocabile e quindi lo ringrazio passo la parola al presidente di questa seduta che è anche il presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici che è stato motore dell'iniziativa dell'iniziativa e che ha cooperato effettivamente a organizzare questo tavolo che è l'ingegner Massimo Sessa che ringrazio naturalmente sentitamente da parte dell'università e anche da parte dell'ordine degli ingegneri di Parma che ha cooperato al sviluppo dell'iniziativa e gli lascio la parola per lo svolgimento e la presidenza dell'interiore rimanente parte della seduta grazie 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 alla professoressa Montrasio buonasera a tutti grazie a voi di essere il numero importante presenti in questo bellissimo rettorato in questa bellissima università e anche in questa bellissima città e con piacere ritorno per la seconda volta a fare un convegno con l'ordine degli ingegneri e ringrazio il presidente tedeschi e lo faccio con piacere forse pochi sanno che sono stato provveditore anni fa alle opere pubbliche dell'Emilia Romagna quando sia l'organizzazione del ministero sia le norme che regolavano questa attività importante della pubblica amministrazione e della società erano totalmente diverse oggi il quadro è mutato ma ritorno con piacere perché ritengo e ringrazio il rettore Borghi di questa sensibilità importante che ritengo che il consiglio superiore per chi lo sa o per chi non lo sapesse oggi è l'organo più antico dell'organizzazione dello Stato nasce nel 1889 ad opera di Cavour e da allora è rimasto così com'è porta con sé una tradizione antica che è quella dell'assemblea di strade e ponti istituita subito dopo la rivoluzione francese alla fine del del Settecento Cavour copia da questa organizzazione la copia bene perché come si diceva nei miei professori in ingegneria l'ingegneria che cosa fa copia ma l'importante è che sappia copiare perché pure copiare non è un'attività semplice bisogna saperlo fare bene e da allora dove Cavour ha intuito la necessità di avere un organismo assemblerare che è importante questo termine perché è un organismo dove si vota dove i vari soggetti prima di prendere una decisione votano e soprattutto un organismo interdisciplinare io infatti rappresento come possiamo dire il trattino fra la parte amministrativa giuridica ben rappresentata dall'avvocato onorevole Umberto De Caro per quanto riguarda il codice e l'aspetto tecnico quello che riguarda un po' più voi i miei e che è l'aspetto della e la direzione lavori che sono argomenti citati in questo convegno infatti il Consiglio Superiore come cita la norma l'articolo 200 ora 215 del codice è il massimo organo tecnico amministrativo dello Stato non è del Ministero gli altri Ministeri hanno un loro Consiglio Superiore noi siamo l'unico di rango statale al di sopra degli altri Consigli Superiore a seguito di questa origine antica e a seguito di questa interdisciplinità perché quando bisogna realizzare un'opera pubblica immaginate un'opera lineare non c'è soltanto l'aspetto ingegneristico l'aspetto ingegneristico è l'aspetto a mio avviso più importante e non a caso il Presidente è un ingegnere ma deve essere congiugato armonizzato con tutti gli altri aspetti che vanno dagli aspetti compositivi architettonici ambientali vincolistici detto questo due riflessioni il codice è sicuramente un'innovazione come è stato rappresentato bene dal sottosegretario è un'innovazione importante e ci sono aspetti molto molto positivi quello che probabilmente oggi sta scontando un transitorio che probabilmente doveva essere organizzato un pochino meglio il problema è stato che la gestazione in ambito parlamentare perché la comunità europea ha un attreggiamento anglosassone molto più rigido del nostro dato tempi stretti di applicazione e c'è stata di fatto una corsa dopo i due anni di gestazione parlamentare del codice una corsa ad assorbire dopo anche la legge delega tutti gli aspetti organizzativi del codice medesimo e l'amministrazione che è quella del Ministero Infrastrutture dei Trasporti vi assicuro che ha fatto salti mortali per poterlo portare nelle date previste l'aspetto più importante che io posso intravedere è quello della qualificazione della centrale di committenza ormai la procedura di una opera pubblica qualunque esso sia è diventata un'opera complessa dove il dominus che è il chiamiamolo funzionario pubblico che sia giurista che sia tecnico deve essere un conoscitore al di là della procedura ma deve essere un conoscitore sia delle norme tecniche sia delle procedure tecniche amministrative e non sempre nella complessità che è l'articolazione dello Stato spesso e volentieri abbiamo riscontrato dai progetti che ci giungevano che piccoli comuni o consorsi di comuni si organizzavano per poter appaltare grandi interventi e questo sottolineava una distonia evidente di come se non eri qualificato sia in quantità di numeri sia in quantità di professionalità e qualità di professionalità eri in grado di portare a buon fine un'opera complessa producendo poi perché poi ahimè le imprese fanno il loro mestiere producendo poi tutta quella serie di ritardi che sono costi tutta quella serie di contenzioso che alla fine è un costo per l'amministrazione ed è una mancanza di risultato degli investimenti pubblici di cui la collettività ne deve godere pertanto organizzare una architettura nuova in questo settore che bene o male rappresenta un quinto del PIL come prima rappresentava il sottosegretario non è banale era corretto avere una qualificazione del soggetto che deve essere il regista della realizzazione di un'opera che insiste sul territorio ed è un aspetto importantissimo un aspetto importantissimo perché prelude ad avere ne parlavo l'altro giorno per inciso l'altra sera con il commissario Errani che è il commissario come voi ben sapete per la ricostruzione dell'ultimo evento drammatico che sta colpendo l'Italia centrale e che si è allargato anche in termini di territorialità che purtroppo oggi l'amministrazione pubblica statale regionale comunale sconta un'esigua presenza io qui sono di parte ve ne chiedo scusa di tecnici in questo settore ho detto al commissario che bisogna fare una riflessione governativa di ritornare a fare concorsi pubblici per avere ingegneri architetti geologi all'interno dell'amministrazione perché ormai per come sono fatte le norme per come è diventata complessa l'attività di una realizzazione di un'opera pubblica e vi assicuro portare a casa un'opera pubblica chi fa questo mestiere lo sa meglio di me nei tempi e nei costi progettati colui che ci riesce bisogna soltanto dirgli grazie e fargli un monumento ma perché è il volume sia dalle norme giuridiche e ahimè anche il nuovo codice al di là dello sforzo che ha fatto il Parlamento è sicuramente corposo il volume di di carte direttive e compagnia cantando ma purtroppo è il tema che è complesso unitamente per chi è tecnico lo dico alle norme tecniche sulle costruzioni l'NTC 2008 do questa informazione in conferenza Stato-Regione c'è la nuova edizione che dovrebbe arrivare a buon fine abbiamo fatto una riunione l'ultima volta il 24 la conferenza Stato-Regione dovrebbe esitare il nuovo testo delle norme tecniche la rivisitazione delle 2008 e l'accordo che è stato fatto sia anche sotto l'impulso del prevole sottosegretario Umberto De Caro è quello di avere in un diciamo in un momento unico per quanto sia possibile le nuove norme tecniche la circolare applicativa che è importante perché poi è quella che è la norma manabile che fa uso di ingegnere professionista e i cosiddetti NAD che sono i coefficienti diciamo eurocodici riportati in Italia e l'altra volta nelle norme tecniche sapete che c'è stato questo sfasamento della circolare che produce sempre una serie di equivoci ci siamo impegnati e stiamo lavorando in parallelo per avere finalmente una unicità che consenta agli operatori di avere certezza negli aspetti della progettazione e dell'esecuzione del intervento detto questo il codice è una novità porta principi comunitari afferma procedure che mi auguro consentano di evitare tutte quelle spiacevoli eventi che purtroppo si verificano ciclicamente in questo settore probabilmente alcuni aspetti hanno scontato una legge delega che rispetto alla legge delega del 2005 che era quella del 163 che se non ricordo male aveva 4 commi e 4 principi questo nuovo testo porta credo una decina di commi e 59 principi cioè una serie di paletti molto stretti che anche nell'applicazione paletti parlamentari della legge delega ha portato un affaticamento che in qualche modo è compensato dallo strumento della linea guida che è un pochino più flessibile del regolamento e ingegnere dico aspettiamo vediamo gli eventi e lo collaudiamo in attività fatta questa premessa non voglio rubare tempo perché visto gli orari e vista la mole degli interventi e poi se poi qualcuno vuole fare anche qualche domanda io immediatamente lascerei la parola al come nell'ordine al presidente dell'ordine ingegneri della provincia di Parma e lo ringrazio sempre per l'invito ingegnere Angelo Tedeschi per rappresentare l'esigenza del progettista che poi è colui che pensa l'intervento e deve pensare anche come deve essere eseguito due passaggi non sono banali perché se la pensata è positiva poi forse l'opera l'abbiamo se la pensata è fatta male ne scontiamo tutti le conseguenze Presidente lei ha la parola grazie un caro saluto a tutti voi e per i relatori bentornati a Parma bentornati a Parma perché erano già passati erano già venuti portando un importantissimo contributo sulle problematiche che interessano non solo ai progettisti ma interessano alla città interessano agli ingegneri dipendenti pubblici e privati e ovviamente il campo universitario sono fondamentali quindi questo caloroso ringraziamento all'onorevole sono cose doverose non solo formali perché quando c'è un impegno così di andare avanti con le persone che si dedicano a queste cose è doveroso fare un ringraziamento proprio che viene dal cuore viene dalla gente che lavora tutti i giorni e che vuol sentire le novità vuol sentire come devo operare bene un ringraziamento all'onorevole del basso De Caro all'ingegnere Massimo Sessa presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e il magnifico rettore ovviamente che ci dà sempre queste opportunità al dottor Carlo Deodato consigliere del consiglio di stato all'avvocato Francesco Ottavi direttore generale delle opere pubbliche del lance all'architetto Cesare di Antonio che è arrivata e ovviamente all'ingegnere Ferrante Andrea siamo conosciuti prima il consiglio superiore dei lavori pubblici e non da ultima la professoressa Montrasio perché senza di lei non sarebbe stato possibile fare questo convegno ci sopporta nelle nostre intemperanze però vedo che di fatto riusciamo sempre a produrre delle cose veramente buone ringrazio i presenti le autorità presenti che vedo che hanno partecipato il presidente del tribune di Parma il presidente del TAR il comandante della finanza per i carabinieri e poco fa c'era il rappresentante del comune di Parma della provincia di Parma dell'AGI e dell'Unione Parmese Industriali che hanno dato il loro patrocinio questo importantissimo ed interessantissimo argomento ovviamente ringraziamento esteso al comitato scientifico e al comitato organizzatore di questo evento testimonia quella sinergia che dicevo che da anni che c'è con l'università e l'ordine degli ingegneri il tema di questo brevissimo intervento sono alcune osservazioni sulle esigenze dei progettisti che non è un argomento semplice se guardiamo le osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale degli ingegneri in occasione dell'approvazione del decreto legislativo e devo dire che il Consiglio Nazionale quindi gli ingegneri hanno partecipato attivamente a questi discorsi però vorrei rimarcare alcuni aspetti che ritengo significativi e positivi innanzitutto la ricerca della centralità del progetto quindi l'affidamento dei lavori sulla base di un progetto esecutivo la forte riduzione del ricorso all'appalto integrato sono anni che partecipo al comitato del MIT di Bologna e queste esigenze tutti i giorni vengono palesate e si pensa di riuscire a superarle con queste diciamo chiamiamole nuovi indirizzi così come pure positivo il ruolo dell'ANAC sulla regolamentazione di dettaglio tramite linee guida e regole per la qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti ne vorrà del tempo ma direi che forse siamo sulla buona strada e comunque è da rimarcare quale sarà e lo scriveremo come dicevo negli anni successivi il reale impatto sui professionisti perché l'obiettivo è quello di garantire certamente la qualità della progettazione che ha la base di tutto ma anche la dignità del lavoro dei progettisti non basta tirare in ballo gli ingegneri quando purtroppo succedono le disgrazie spesso vengono citati in modo inopportuno e anche un po' forviante ma bisogna fare in modo che rispettando la qualità della progettazione si rispetti anche la dignità del lavoro dei progettisti io esorto chi veramente partecipa e amano a queste cose in tal senso perché non ritengo che l'atteggiamento sia quello di difendere una categoria che vuol dire non serve non è corretto sarebbe poi quella degli ingegneri ma noi così difendiamo la collettività ma di rimarcare che è nella centralità del progetto e nella centralità dei controlli in esecuzione che si pongono le basi per degli interventi sicuri duraturi idonei alle esigenze dei cittadini troppo spesso assistiamo a situazioni in cui le pubbliche amministrazioni sono in difficoltà nella pianificazione e costringono una contrazione dei tempi di progettazione che non è assolutamente compatibile con l'esigenza di qualità tesa senza parlare di compensi economici tutto è subito e a poco prezzo lo viviamo tutti i giorni non si tratta di individuare delle colpe tra chi chiede chi accetta queste condizioni ma si tratta di superare una volta per tutte questo circolo vizioso che credetemi è troppo spesso fonte di problematiche che si potrebbero tranquillamente evitare problematiche che portano a delle contestazioni a dei tempi lunghi e spesso ad opere fatte non bene non come si dovrebbe non ritengo che si debba parlare in senso critico del nuovo codice degli appalti perché è già stato approvato sono state emanate una serie di linee guida e senz'altro poi ci sarà un approfondimento in questa parte e quindi apparirebbe un atteggiamento non costruttivo rimarcare ancora i problemi già sollevati in sede di approvazione dal nostro CNI voglio però ribadire che noi non tuteliamo chi fa il proprio mestiere perché ci siamo sempre impegnati a tutelare quei professionisti che si impegnano assumono responsabilità e cercano di fare la professione in tutta onestà penso di parlare a ragionveduta dopo tanti anni per un ordine che da tempo ha sempre posto l'accento sulle necessità di una formazione permanente dei propri iscritti anche quando non era obbligatoria noi abbiamo iniziato nel 95 un rapporto strettissimo con l'Università di Parma in tutti i settori dell'ingegneria gli aggiornamenti e la formazione permanente lo abbiamo fatto perché riteniamo che la professionalità sia e debba essere tutelata però è ora anche ancora di rimarcare una decisione che a volte il nostro apporto è considerato scontato apporto dico degli ingegneri e non un servizio qualificante allora mi chiedo fino a che punto è colpa nostra e fino a che punto può far comodo questa è forse un'osservazione un po' più politica ma comunque in effetti a volte si assistono a delle situazioni molto delicate che vengono vissute poi spesso anche fuori dal nostro ordine io parlo diciamo col Tribunale quando capita col Tribunale di Parma col Tar ci sono delle situazioni che sono a volte un po' imbarazzanti su questi argomenti questo ordine crede nella centralità del progetto farà di tutto per tutelare la dignità dei professionisti qualunque essi siano io parlo dei professionisti anche dei dipendenti pubblici pubblici e privati perché sono tutti ingegneri che operano correttamente però cercate anche di capire le difficoltà in cui operiamo che non dipendono solo da noi perché quello che mi riguarda come Presidente dell'Ordine cercherò sempre di evitare atteggiamenti non consoni al ruolo che ci ha affidato noi dipendiamo di fatto dal Ministero della Giustizia e dobbiamo avere il senso dello Stato ma dobbiamo evitare di prestare il fianco a chi tende a volte a vederci come capo espiatorio quando le cose non funzionano e questo assolutamente non va bene perché il danno che si fa a parte che molte volte non è vero ma il danno che si fa può generare una sfiducia verso delle categorie professionali io parlo degli ingegneri ma anche per altri che non è corretta noi vediamo le ricadute tutti i giorni dove a volte faccio un esempio banale d'altra sera dove una persona si è messo d'accordo con l'impresa ma c'è l'ingegnere l'architetto ma si rimane torna a firma e questo è un atteggiamento sbagliato perché noi non andiamo in farmacia a chiedere le medicine abbiamo una ricetta di un professionista che ci dice cosa prendere molto semplice colgo infine l'occasione per porgere ancora i miei saluti ed augurarvi un buon convegno grazie grazie presidente ora in qualità di moderatore inizio l'aspetto diciamo quello tecnico la novità processuale introdotta nel nuovo codice degli appalti l'atore amico di specchia data il stato Carlo Dodato poi avremo l'avvocato Francesca Ottavi che rappresenta diciamo l'associazione costruttori edili e per quanto riguarderà gli aspetti innovativi novità delle procedure di affidamento dei lavori poi avremo l'architetto D'Antonio che è consigliere presso il Consiglio Superiore Pubblici e il collega Ingegner Ferrante sempre anche lui del Consiglio Superiore Pubblici che tratteranno l'argomento le principali novità per quanto riguarda la filiera della progettazione il nuovo codice che introduce il cosiddetto progetto di facilità che è una novità importante una novità che va nella direzione di ridurre al minimo quello che prima ha rappresentato il sottosegretario l'incertezza sul progetto che poi produce la cosiddetta variante allora do subito la parola al consigliere di Stato Carlo Deodato lo ringrazio di essere qui con noi titolo le novità professorali introdotte dal nuovo codice spazio Carlo a te la parola ripeto i ringraziamenti non posso esimermi perché è assolutamente doveroso e ringrazio l'università di Parma in particolare il rettore Borghi la professoressa Montrasio ma anche il presidente del consiglio dell'ordine degli ingegneri di Parma l'ingegneri tedeschi e l'amico Massimo Sessa che ha segnalato il mio nome per questo convegno e con il quale condividiamo una antica amicizia nonché una comune passione per la materia degli appalti di lavori devo dire che ragionando un po' sugli interventi che sono stati programmati e sulla presenza a questo tavolo ho notato che a questo convegno sono presenti il governo per mezzo del sottosegretario del basso de caro il consiglio superiore dei lavori pubblici l'università gli ingegneri le imprese per mezzo della dottoressa che rappresenta l'ance e il consiglio di stato nella duplice veste diciamo di organo di consulenza dell'amministrazione di giudice amministrativo mi sembra che siano presenti tutti gli attori e gli operatori coinvolti nell'attuazione di questo codice e in questo senso mi sembra uno di quegli eventi fondamentali per ragionare insieme sulle criticità sui problemi sulle difficoltà di applicazione del codice manca solo l'anac ma permettetevi una battuta ce ne faremo una ragione visto che forse è fin troppo presente diciamo così in tutte le sedi quindi diciamo se per una volta non partecipano non succede nulla io chiedo perdono dall'inizio al rappresentante del governo se mi permetterò qualche osservazione critica nei confronti del codice ma lo farò in maniera rispettosa e ovviamente nel spirito di lealtà istituzionale che ha sempre contraddistinto l'istituto a cui appartengo e anche me personalmente tuttavia devo dire che il suo intervento mi ha messo un po' in difficoltà perché è stato un intervento nel quale ha mirabilmente sintetizzato tutti i principi e gli obiettivi del codice e in qualche modo ha descritto la filosofia di questa riforma in maniera assolutamente completa ed esauriente quella consulenza che metà del mio intervento diciamo sì è risolto diciamo sì dall'onorevole De Caro e devo dire ringrazio perché ha fatto un'analisi assolutamente lucida ed esauriente della sistematica del codice dico solo tre cose diciamo sul provvedimento normativo in generale la prima è una curiosità lessicale diciamo tutti continuiamo a chiamare questo provvedimento codice degli appalti ora questa è poco più che una curiosità nominalistica forse pochi sono accorti che il titolo del decreto legislativo non rega la parola codice si dice attuazione delle direttive 2014-23 e 2014-24 sulla giudicazione eccetera è una stranezza perché nella legge delega si parlava di codice degli appalti il consiglio di stato nel suo parere ha suggerito la visione di codice dei contratti pubblici che comprendeva un po' tutte le modalità contrattuali a sorpresa il governo non ha menzionato la parola codice nel titolo ma questa è poco più che una curiosità diciamo che tutti gli operatori continuano a chiamarlo codice degli appalti anche se non c'è nel titolo del provvedimento si è detto che l'attuazione delle direttive ha creato una difficoltà nella tempistica del recepimento in effetti è così nel senso che dei due anni assegnati dalle direttive per il recepimento la stragrande maggioranza del tempo è stata occupata dalla gestazione della legge delega e solo negli ultimi tre mesi il governo si è potuto occupare dell'emanazione del decreto legislativo ora voi sapete che la procedura di emanazione dei decreti legislativi è una procedura piuttosto complessa perché prevede una prima approvazione dello schema di decreto legislativo in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri la trasmissione agli organi consultivi che in questo caso erano le commissioni parlamentari la conferenza Stato-Regioni e il Consiglio di Stato che non dà sempre pari sui decreti legislativi ma in questo caso era previsto nella legge delega e un'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo con l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica che deve avvenire entro il termine di scadenza della delega ora in questo caso è successo che essendo stata approvata la legge delega a ridosso della scadenza del termine di ricepimento questa fase istruttoria molto complessa è stata necessariamente accelerata e questo ha messo in difficoltà sia il governo che si è trovato nella situazione di dover concepire un provvedimento comunque complesso per quanto chiaratamente snello ma anche gli organi consultivi noi ci siamo dovuti diciamo dedicare allo studio di questo provvedimento comunque complesso più di 200 articoli nel giro di poco più di 10 giorni e con uno sforzo devo dire notevole siamo riusciti a rendere un parere di più di 200 pagine che ha dato delle indicazioni significative al governo sull'istruttore di questo provvedimento così come le commissioni parlamentari hanno in gran parte recepito del Consiglio di Stato questo per dire che diciamo la ristrettezza dei tempi di attuazione della delega ha creato comunque una difficoltà diciamo nella definizione di un provvedimento esente da da critiche e da vizi o errori come si è visto poi con l'avviso di rettifio con il quale il governo ha provveduto a correggere diverse imprecisioni per errori che nel testo state rilevate non siamo riusciti a segnalarle tutte comunque diciamo alla fine questo aspetto è stato corretto un'altra difficoltà che pochi hanno notato nel recepimento delle direttive dipende dal carattere un po' snaturato della fonte comunitaria della fonte europea voi sapete che la direttiva diciamo secondo il tema delle fonti europee è un provvedimento nel quale la commissione europea dovrebbe limitarsi ad assegnare agli stati membri degli obiettivi e lasciare gli stati membri liberi delle modalità diciamo di recepimento e di perseguimento di quegli obiettivi queste direttive ma anche quelle precedenti sono direttive iper dettagliate tanto che alcuni paesi le recepiscono con una normativa molto semplice che si limita a dare esecuzione alle direttive nell'ordinamento interno senza aggiungere quasi nulla noi in realtà per cultura giuridica nostra e normativa abbiamo ulteriormente complicato nel senso che nonostante il carattere ultra dettagliato di queste direttive abbiamo aggiunto una regolamentazione forse eccessiva o comunque di dettaglio ulteriore e questo è un ulteriore elemento di complicazione anche perché paradossalmente questa è una contraddizione spesso le direttive sono molto dettagliate ma sono formulate in modo tale che gli stati membri possono scegliere se recepire o meno quella regolamentazione così dettagliata che questo complica ancora di più l'attuazione dell'atto europeo fra gli obiettivi dichiarati non li ripeto perché li ha detti benissimo al sottosegretario ribadisco quello che poi sarà l'oggetto della parte finale del mio intervento che è quello di una revisione delle regole del contenzioso uno dei difetti che sono stati riscontrati a carico del vecchio codice o comunque del sistema processuale amministrativo era quello di un'eccessiva farraginosità della tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici spesso l'intervento del TAR del Consiglio del Stato è stato percepito con insofferenza dalla politica e per questo motivo diciamo che si è voluto introdurre un nuovo sistema di regole in chiave di accelerazione e deflazione del contenzioso poi spiegherò bene come ma tra gli obiettivi c'è anche questo di una tutela processuale più semplice e più veloce vedo il Presidente del TAR di Parma che saluto e che sicuramente capisce bene cosa sto dicendo ma poi diciamo vedo meglio dopo sull'impianto generale il Sottosera ha detto bene che questo intervento normativo è stato concepito in un'ottica di codificazione snella e cioè si è pensato a un provvedimento legislativo più leggero di quello precedente che racchiudesse in sé tutta la normativa in materia di contratti pubblici armonizzandola e sistemandola sul piano appunto della coerenza ordinamentale con l'affidamento diciamo così della fase attuativa a una serie di provvedimenti attuativi più di 50 di varie tipologie come è stato detto con il carattere della flessibilità diciamo così definito in termini anglosassoni come di soft law e cioè di una regolamentazione flessibile agile e snella priva di quel carattere di rigidità formale dei regolamenti governativi nell'ottica del governo questo dovrebbe servire a rispondere in maniera più veloce alle esigenze del mercato senza la rigidità formale del procedimento di approvazione dei regolamenti voi sapete che i regolamenti governativi prevedono necessariamente l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il parere obbligatorio del Consiglio di Stato il visto della Corte dei Conti per quelli di delegificazione il parere delle commissioni parlamentari e si tratta di una procedura che richiede un qualche tempo e un qualche rigore formale le linee guida no nel senso che l'ANAC si preoccupa solo di convocare il suo organo collegiale dopo aver istruito ovviamente la questione e con una sola deliberazione diciamo così emana l'atto questo nella prospettiva del governo dovrebbe diciamo così servire a introdurre una regolamentazione più veloce e più funzionale al funzionamento del mercato dei lavori pubblici e dei contratti pubblici in genere ora bisogna chiederci se l'idea di questa codificazione snella agile ed efficace se questo obiettivo sia stato raggiunto oppure no è stato detto da più parti sia dal tedesco ma anche dal sottosegretario De Caro anche da Massimo Sessa che è questione di tempo in effetti è vero nel senso che il sistema di regole che è stato concepito ha bisogno di un tempo fisiologico di attuazione c'è da chiedersi che succede in questo frattempo allora io mi permetto di formulare quattro critiche cinque critiche diciamo sì all'impianto generale di questa idea di una codificazione snella che peraltro come stavo detto è snella fino a un certo punto perché il numero di articoli è molto elevato e ci sono articoli che hanno anche 15-20 commi e commi che hanno un numero ridontante di periodi quindi non è solo il numero degli articoli il sistema delle regole è comunque molto complesso ma questo dipende in gran parte dalle direttive non certo dalle scelte del governo un primo elemento di criticità è che questo riguarda soprattutto la unicità del codice voi sapete che per codice si intende un provvedimento normativo che racchiude in sé tutta la normativa che riguarda quel settore dell'ordinamento ed è uno strumento normativo di estrema utilità perché gli operatori sanno che là dentro trovano tutte le regole che disciplinano quel settore questo obiettivo non può essere raggiunto in maniera completa nell'ordinamento italiano perché residuano alcune competenze delle regioni voi sapete che la materia dei contratti pubblici non è espressamente menzionata in costituzione fra quelle di competenza dello Stato ma si ritiene che sia di competenza dello Stato sia per quanto riguarda l'aspetto della scelta del contraente che attiene alla materia della tutela della concorrenza sia per quanto riguarda la disciplina del contratto che attiene alla materia dell'ordinamento civile che sono entrambe di competenza dello Stato però la Corte così suona ha detto che le regioni conservano un potere legislativo in questa materia soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione delle loro funzioni le commissioni di gara la definizione dei compiti del responsabile del procedimento ora si tratta di vedere se e come le regioni legifereranno su questa materia in ogni caso questo impedisce al codice ma per ragioni costituzionali di raggiungere questo obiettivo della unicità del corpus normativo un altro elemento di criticità che è dovuto sicuramente alla ristrettezza dei tempi per la definizione del decreto legislativo è quello che non ha consentito un baglio completo della normativa esistente prima dell'emanazione del decreto legislativo numero 50 e che quindi ha comportato dei difetti di coordinamento voi sapete che è una buona tecnica di normazione una delle regole principali che quando si introduce una normativa nuova occorre indicare espressamente le norme precedenti abrogate l'abrogazione tacita è un effetto che va visto con molta diffidenza perché crea incertezza negli operativi e quindi è necessario che ogni provvedimento normativo indichi espressamente in un articolo finale quali sono le norme abrogate per effetto dell'entrata del coro del nuovo legislativo ora è stato fatto questo decreto legislativo ma sono sfuggite inevitabilmente alcune disposizioni legislative che sono sopravvissute formalmente ma che non si sa se sono sopravvissute anche sostanzialmente perché non è chiaro che sono state abrogate tacitamente un esempio per tutti è quello del decreto legislativo sui contratti della difesa e della sicurezza che non si capisce bene in che modo viene coordinato con il decreto legislativo numero 50 anche questo è frutto un po' della fretta e forse è il caso in un prossimo correttivo di chiarire i rapporti con alcune discipline speciali previgenti un altro grande problema è quello che è stato detto è quello dell'attuazione del decreto legislativo è stato ricordato qual è stata la ricostruzione anche diciamo dogmatica nel sistema delle fonti degli atti attuativi da parte del consiglio di stato e sapete che si è detto il decreto legislativo ha rinviato più di 50 atti attuativi la definizione della disciplina di dettaglio gli atti attuativi sono eterogenei fra di loro ci sono decreti ministeriali linee guida vincolanti linee guida non vincolanti con procedure diverse parere dell'ANAC al ministero parere delle commissioni parlamentari all'ANAC eccetera tutto questo sistema di attuazione è un sistema astrattamente diciamo così come ho detto funzionale perché il sistema della regolamentazione flessibile della soft law dovrebbe servire a soddisfare le esigenze del mercato in maniera più efficiente del regolamento però produce sicuramente ritardi incertezze e difficoltà della definizione di un quadro chiaro diciamo che in astratto un sistema regolatorio sicuro e certo dovrebbe comportare l'entrata in vigore contestuale della normativa primaria e della normativa di attuazione in modo che gli operatori abbiano in maniera diciamo abbiano chiaro il quadro normativo completo della normativa di riferimento mentre qua abbiamo una normativa primaria e una carenza nella normativa secondaria che sarà presto ovviamente colmata ma nel frattempo c'è un'incertezza poi come dirò dopo è un'incertezza che riguarda anche la fase transitoriale mi permetto solo di fare un'osservazione visto che il tema l'ha sollevato non ne avrei parlato però il sottosegretario ha parlato della questione delle linee guida vincolanti ora il Consiglio di Stato nel suo parere si è fatto carico di collocare questo provvedimento nel sistema delle fonti e ha detto che si tratta di atti di regolazione assimilabili a quelli delle autorità amministrative indipendenti io mi sono permesso diciamo così dopo aver sottoscritto questo parere con il relatore insieme ad altri colleghi di esprimere qualche dubbio sulla compatibilità costituzionale dell'inne guida vincolanti sulla base di questo ragionamento mi sembra un po' forzata la definizione di questi atti come atti di regolazione delle autorità indipendenti perché non hanno il carattere della tecnicità e della settorialità sono atti di normazione generale che diciamo hanno le caratteristiche della strattezza e delle generalità che è tipica degli atti regolamentari e che di conseguenza a mio avviso avrebbero dovuto essere affidati a regolamenti governativi perché il governo è l'unica autorità che ha una legittimazione democratica a produrre norme di diritto l'ANAC non ha una legittimazione democratica quindi si affida sostanzialmente a un'autorità priva di legittimazione politica all'emanazione di norme che vincolano diciamo la generalità dei consociati questo secondo me è improprio con riguardo al sistema delle fonti i regolamenti gli atti di normazione secondaria che si applicano a tutti i consociati col carattere della generalità e della strattezza dovrebbero essere emanati solo dal governo ma questa è un'osservazione molto personale diciamo così e che non impegna l'istituto che anzi l'ha qualificato diversamente resta il problema appunto di una fase attuativa difficile perché per quanto sia più snella la procedura dell'ANAC il Consiglio di Stato nel primo parere ha imposto una consultazione degli stakeholder la predisposizione di un'analisi di impatto della regolamentazione la pubblicità delle forme diciamo così istruttorie che in qualche modo non dico che assimilano le linee guida al regolamento ma certo lo rendono meno snello e veloce in più l'ANAC ha deciso facoltativamente noi abbiamo apprezzato ovviamente questa iniziativa di chiedere il parere del Consiglio di Stato su tutte le linee guida ancorché non fosse prescritta la legge è stato un segnale di attenzione per l'organo di consulenza amministrativa massimo dello Stato che noi abbiamo apprezzato e che siamo compito che stiamo svolgendo col massimo della dirigenza e della sollecitura i Stati peraltro sono molto apprezzati dall'ANAC quindi c'è una dialettica istituzionale di grande utilità per il sistema complessivo l'attuazione del codice un altro problema che è stato identificato e che forse è mancato un criterio di delega che imponesse il recepimento di principi giurisprudenziali consolidati su alcune questioni dubbie sarebbe stato utile un criterio di delega del genere perché avrebbe risolto alcuni problemi che rimangono risolti penso faccio solo un esempio alla norma del soccorso istruttorio che continua a prevedere la regolarizzazione anche di violazioni solo formali o non essenziali cosa che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Tarra ha sempre escluso perché è un adempimento assolutamente superfluo si capisce che senso ha la regolamentazione di documentazione che non comporta l'esclusione dalla gara è vero che non si paga la sanzione amministrativa ma è comunque doverosa e questo aggrava il procedimento senza soddisfare alcun interesse pubblico apprezzabile l'ultimo problema è quello che è stato accennato dagli altri legislatori è quello della disciplina transitoria che forse è il problema più delicato nel senso che nel primo testo che era stato trasmesso dal Consiglio di Stato era prevista l'abrogazione immediata del DPR 207 del 2010 noi abbiamo suggerito di inserire una clausola di cedevolezza e cioè la sopravvivenza delle norme regolamentari fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi che indicavano le norme sostituite il Governo ha recepito solo in parte questo nostro suggerimento e quindi ha previsto questa clausola di cedevolezza in generale ma l'abrogazione immediata di alcune parti del vecchio regolamento questo però ha creato il problema di un difetto di coordinamento con la normativa primaria perché sopravvivono norme secondarie concepite con riferimento di una normativa primaria non più esistente con ovviamente una difficoltà di funzionamento del sistema delle norme diciamo le norme regolamentari vengono emanate in coerenza con quelle primarie se quelle primarie sono cambiate la sopravvivenza di quelle secondarie non risolve nulla ora questa incertezza è uno dei fattori che sta rallentando diciamo così la indizione di nuove gare perché nella diciamo incertezza di un quadro di regolazione certo stabile sicuro le stazioni appaltanti sono ovviamente timorose nella indizione di nuove procedure di appalto e questo diciamo soluzione di mantenere in vita norme regolamentari del Dimpiero 207 del 2010 fino alla emanazione delle nuove non risolve perché appunto sono spesso discipline di dettaglio che non si parlano con la normativa primaria e che quindi non riescono a raggiungere il risultato di costruire un sistema regolatorio affidabile e sicuro inoltre sono rimaste sprovviste di tutela anche transitoria alcuni aspetti della disciplina che sono secondari ma che comunque afferiscono a norme del regolamento che sono state immediatamente abrogate ma che non sono state sostituite con immediatezza da norme sopravvenute sulla semplificazione della tutela processuale ho detto che uno degli obiettivi del codice era anche quello di accelerare il contenzioso in chiave deflattiva e soprattutto acceleratoria si è voluto cioè con alcune disposizioni innovative del codice del processo amministrativo evitare contenziosi tardivi formalistici afferenti a fasi della gara superate voi sapete che secondo il sistema previgente l'impresa è tenuta ad impugnare immediatamente solo la sua esclusione ma non era tenuta ad impugnare attiendo procedimentali tipo le ammissioni alla gara di altre imprese con la consenza che ogni gara finiva con l'impugnazione dell'aggiudicazione della gara ad un'altra impresa ma con la deduzione di vizi che riguardavano la fase dell'ammissione di quella impresa con l'ulteriore conseguenza che l'impresa giudicataria proponeva ricorso incidentale per contestare invece la necessità dell'esclusione dell'impresa ricorrente con ricorsi incrociati che hanno creato anche difficoltà processuali che non vi sto a dire perché sono molto tecniche e questo ovviamente con contenziosi che riguardavano soprattutto la fase dell'ammissione alla gara e non la fase della gara vera e propria cioè il confronto tra le offerte l'anomalia delle offerte i punteggi delle offerte tecniche erano consenziosi soprattutto formali sui titoli di legittimazione alla partecipazione alla gara e si è voluto superare questa tortura diciamo così con una innovazione processuale che ha introdotto un nuovo rito cosiddetto super speciale perché introduce delle dero che in funzione accederatoria rito già speciale degli appalti voi sapete che da sempre la tutela contenziosa degli appalti è concepita con un unico criterio dell'accelerazione della definizione del contenzioso le regole che hanno sempre presidiato questo tipo di contenzioso sono sempre state regole eccezionali rispetto alla normativa principale ora quindi con il dimezzamento dei termini previsti in via in via si è però pensato in questo caso di introdurre un'ulteriore deroga alla regola generale appunto mediante l'onere di impugnare immediatamente anche le ammissioni delle altre offerte alla gara con la previsione espressa che l'omessa impugnazione dell'ammissione dell'altra impresa alla gara preclude la possibilità di impugnare l'aggiudicazione deducendo in via derivata il vizio dell'ammissione cioè una volta che non si è impugnata l'ammissione nel termine di 30 giorni diventa inoppugnabile la razza di questa innovazione è facilmente identificabile nell'esigenza di cristallizzare la platea dei partecipanti alla gara cioè delle imprese che hanno titolo di partecipare alla gara in un tempo molto stretto i tempi sono molto veloci in definizione di questo contenzioso in modo da riservare le eventuali contestazioni dell'aggiudicazione solo alla fase successiva cioè la fase di valutazione delle offerte e del confronto concorrenziale vero e proprio ma con una inoppugnabilità o comunque definizione ormai irrevocabile della fase dell'ammissione alla gara il diritto è definito super speciale perché contiene plurimederove a regime già speciale del contenzioso degli appalti sono state formulate alcune critiche a questa innovazione processuale della quale per ora non abbiamo della cui efficacia non abbiamo contezza perché come è stato detto finora il codice degli appalti ha prodotto diciamo molte più parole di appalti veri e propri e quindi anche il contenzioso di conseguenza è molto carente visto che non si fanno le gare non si fanno neanche ricorsi non ci resta che aspettare prima o poi si faranno le gare e si faranno quindi sull'impatto non si sa granché la finalità è assolutamente condivisibile la finalità è quella di definire in tempi veloci tutte le contestazioni sulla legittimazione a partecipare alla gara in modo che il ricorso contro la giudicazione sarà riservato solo a questioni che riguardano la fase successiva per evitare appunto quel fenomeno di contestazioni formalistiche tardive capitava spessissimo appunto che dopo una gara durata un anno si impugnava la giudicazione dicendo ma tu non hai prodotto nella fase della presentazione dell'offerta e ti sei dimenticato il certificato dei carichi pendenti del direttore dei lavori ecco questo non sarà più così questa fase sarà definita in un contenzioso veloce rapido anticipato anticipato alcuni problemi però ci sono su questa scelta che pure è assolutamente condivisibile innanzitutto c'è un dubbio di compatibilità costituzionale con gli articoli sul diritto di difesa cioè qua si impone un ricorso nei confronti di un atto che non è necessariamente lesivo voi sapete che i ricorsi al tar si devono fare contro provvedimenti che pregiudicano la parte ricorrente l'ammissione di un'altra impresa nella fase diciamo così del controllo dei requisiti di partecipazione è un atto di per sé non lesivo perché finché la gara non viene definita le altre imprese non sono danneggiate di per sé dalla partecipazione di un'impresa che potrebbe anche arrivare ultima nella gara vera e portata quindi si impone un'onere processuale comunque rilevante col pagamento del contributo unificato l'incarico a un professionista per un atto che non è necessariamente lesivo e al cui annullamento l'impresa ha un interesse solo ipotetico e presunto dal legislatore questa è una prima difficoltà un'altra difficoltà è che i tempi così stretti rischiano una indebita compressione dei diritti di difesa e anche di produrre l'effetto di un carattere sommario dei giudizi la valutazione è così stringente nei tempi che c'è il rischio di una tutela approssimativa c'è poi il rischio ma questo credo che sia scongiurato di un'eterogenesi dei fini cioè se la finalità è quella deflattiva potrebbe capitare il contrario e cioè che le imprese nel dubbio impugnano tutte le ammissioni delle altre imprese e quindi il contenzioso se capita questo aumenta anziché diminuire ma questo lo sapremo solo con l'attuazione di questa norma c'è poi un pericolo di scarsa effettività del diritto di difesa nella misura in cui si impone il ricorso nel termine di 30 giorni ma senza assicurare alle imprese che partecipano alla gara un'adeguata conoscenza dei titoli di partecipazione dei requisiti di partecipazione delle altre imprese cioè si impone un ricorso praticamente al buio perché gli strumenti di controllo del possesso dei requisiti non sono attivabili in un tempo che consenta una consapevole proposizione del ricorso nel termine di cadenza di 30 giorni non è poi chiara la scansione temporale della fase di ammissione alla gara rispetto a quella di valutazione delle offerte cioè non è chiaro nel codice quando si cristallizza l'ammissione delle imprese e soprattutto non è coordinata con i principi del soccorso istruttorio dell'autotutela che per il codice stesso articolo 80 è possibile in ogni fase della procedura la stazione appattante è tenuta a escludere imprese privi dei requisiti fino alla fine fino alla giudicazione e anche dopo se si accorge che l'impresa giudicataria non aveva requisiti come gioca questo potere di autotutela con l'onere di impugnazione non è chiaro è inutile la previsione del rito camerale si prevede il rito in camera di consiglio che c'è la sola differenza che gli avvocati non si mettono la toga e le porte sono chiuse ma non cambia niente per il resto e poi c'è un dubbio sul senso di questa norma che impedisce in questi ricorsi l'ammissibilità dei motivi aggiunti che invece in generale è imposta per ogni impugnazione di atti connessi a quello impugnato in via principale qua è esclusa cioè se dopo l'impugnazione dell'ammissione avviene la giudicazione la giudicazione in pendenza di questo ricorso non può essere impugnata con motivi aggiunti ma va impugnata con un ricorso autonomo non si capisce il senso di questa norma visto che è proprio questo il caso in cui c'è un'esigenza di trattazione congiunta di ricorsi che attengono alla stessa questione e alla stessa fase un'altra innovazione vado a concludere è quella sulla tutela cautelare questa è una norma che vi leggo è una norma che impone al giudice di tenere conto di leggo esigenze imperative connesse ad un interesse pubblico generale all'esecuzione del contratto dandone conto nella motivazione è una norma che nasce da uno sfavore per la tutela cautelare soprattutto nei confronti delle aggiudicazioni e forse anche di una sfiducia nei confronti dell'amministrativo cioè si vuole limitare al massimo la sospensiva delle aggiudicazioni per consentire l'esecuzione dei lavori è una norma tutto sommato pleonastica perché già adesso il giudice amministrativo quando si occupa di un'istanza di esaminare un'istanza cautelare che prevede la sospensiva di un'aggiudicazione si fa carico delle esigenze dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'appalto non le ignora questa norma rafforza l'esigenza di considerare anche l'interesse generale all'esecuzione dell'opera o comunque all'attuazione del contratto non si riferisce solo ai lavori ma anche ai servizi e alle forniture è una norma che se interpretata in maniera stretta e rigorosa potrebbe anche presentare dei profili di dubbia compatibilità con il principio europeo di effettività della tutela cautelare che impone di garantire agli operatori economici un accesso effettivamente soddisfacente alla tutela interinale e cautelare quindi alla sospensiva di atti dannosi e illegittimi in conclusione credo che sia assolutamente utile il dialogo fra tutti gli operatori come è accaduto oggi pomeriggio e credo che sia necessario ascoltare diciamo così dagli operatori del diritto dagli operatori economici impegnati nell'attuazione del codice tutti i profili di criticità e di difficoltà perché credo che tutti i soggetti coinvolti abbiano il medesimo interesse e cioè quello di favorire l'attuazione di una riforma che dovrebbe servire ma noi speriamo che serva a un rilancio vero effettivo e concreto dell'economia del paese sotto il profilo di un'accelerazione e di un'implementazione e un'efficientamento del mercato dei contratti pubblici grazie ringraziamo Chiere che ho dato di questa ampia e dettagliata rappresentazione degli istituti evidenti al contenzioso passiamo un argomento altrettanto importante interessante fare novità in materia di procedure di affidamento dei lavori pubblici e do la parola all'avvocato Francesco Ottavi direttore legale e opere pubbliche del Lancia e rappresenta il mondo degli esecutori avvocato a te la parola grazie grazie allora mentre riprendete fiato un attimo io trovo le mie slide avvio la presentazione ci siamo allora buonasera a tutti un saluto alla platea ma anzitutto un ringraziamento a chi mi ha invitato in questa autorevole sede e quindi anzitutto all'università al rettore magnifico professor Borghi al motore organizzativo di questa iniziativa come l'ha definito la professoressa Montasio cioè il presidente Sessa alla stessa professoressa Montasio che più volte ho disturbato al telefono per i dettagli anche organizzativi e che si fa carico di tutto per l'ottima riuscita di queste iniziative è difficile prendere la parola adesso dopo gli autorevoli relatori che mi hanno preceduto è difficile essere a loro altezza e dare tutto questo dettaglio tecnico però ci provo lo stesso e io mi occupo di lavori pubblici cioè sono a Lancia l'associazione nazionale costruttori edili sono la parte tecnica sono la cosiddetta struttura si dice quindi sono un avvocato e vi parlerò di lavori pubblici so che la platea è formata in prevalenza da progettisti quindi mi rivolgo naturalmente anche ai progettisti perché le sinergie fra il mondo delle imprese e della progettazione è inevitabile e fruttuoso speriamo sempre più virtuoso in futuro ma anche a quelle stazioni appaltanti che mi dicono essere presenti in sala quindi parleremo naturalmente anche delle innovazioni che riguardano la parte della domanda pubblica alle procedure di affidamento ma di lavori allora evitando di ripetere poi ciò che è stato già detto quindi magari qualche slide la saltiamo obiettivi della riforma già detti già inquadrati qui li vediamo proiettati in maniera almeno ho cercato di dare una sintesi che va quindi ad individuare nella razionalizzazione semplificazione trasparenza concorrenza migliore qualificazione di tutti i soggetti implicati nel ciclo realizzativo di un'opera quindi le imprese i progettisti le stazioni appaltanti e sullo sfondo un aumento della discrezionalità in capo all'amministrazione il passo in avanti che fa questo codice rispetto al codice dell'ISE al vecchio codice dei contratti quindi il nuovo codice dei contratti il 50 indubitabilmente introduce maggiori poteri discrezionali in capo alla pubblica amministrazione vediamo se questi obiettivi sono stati raggiunti in che misura dove bene dove meno dove affatto questi sono i punti chiave della riforma con gli occhiali ripeto dell'Associazione Nazionale Costruttore Edili per il mondo dei lavori non parleremo di tutto non vi preoccupate se no svenite dopo tutto questo tempo passato a sentirci ma solo dei punti principali e magari mi esalteremo pure qualcuno perché è stato già autorevolmente trattato i livelli della progettazione qui parlo con la cenere sul capo cioè con il massimo rispetto per voi che siete voi insegnare a me quali sono i reali contenuti della progettazione comunque qual è la novità prima c'era un progetto preliminare un progetto definitivo esecutivo oggi c'è un progetto di fattibilità tecnica ed economica che sostituisce il preliminare non c'è più il progetto preliminare un progetto definitivo un progetto esecutivo la progettazione definitiva ed esecutiva devono essere preferibilmente predisposti dal medesimo soggetto ma queste norme sono fra quelle attualmente sospese perché perché il soggetto è uno degli atti appunto di numerosi atti attuativi che dovranno essere adottati in questo caso penso ci siano anche le persone sedute al nostro tavolo che ci potranno magari dare delle anticipazioni su questo quindi ci sarà un decreto del MIT che dovrà dare contenuto a questi livelli di progettazione nel frattempo che succede? Niente applichiamo il 207 quindi tutti tranquilli e le vecchie categorie concettuali il BIM altro argomento per me difficile da descrivere a degli ingegneri il BIM è il Building Information Modeling cioè una modalità nuova di progettazione su un modello informatico correggetemi se sbaglio sono pronta ad essere criticata innovativa perché appunto su strumentazione di tipo informatico ma con il vantaggio di ridurre dovrebbe ridurre al massimo l'errore progettuale perché arriva ad un livello di dettaglio di precisione che contiene molto l'errore progettuale con tutti i benefici che ne conseguono in termini di esecuzione quindi di contenimento del fenomeno delle varianti per errore progettuale è in piedi il BIM? ancora no perché aspettiamo di vedere il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti doveva essere emanato entro il 31 luglio scorso ma forse non era un termine perentorio anzi sicuramente quindi ci dirà il contenuto vero e proprio di questo nuovo strumento di progettazione che non riguarderà tutte le over ma solo quelle nuove oppure gli interventi di recupero riqualificazione e le varianti che riguardino prioritariamente lavori complessi quindi c'è una soglia di complessità oltre la quale si può fare ricorso al BIM tra l'altro le amministrazioni che si serviranno del BIM lo vedremo fra un attimo saranno premiate per questo in termini di qualificazione la novità questa volta non per i progettisti mi spiace per voi ma per i lavori pubblici novità relativa l'anticipazione del corrispettivo allora due minuti di cronostoria diciamo di questa posizione lance nel 2013 c'era il governo Letta di cui capo dell'ufficio legislativo della presidenza del consiglio era il nostro consigliere Deodato lance a un certo punto dopo vent'anni di caduta nel dimenticatoio dell'anticipazione alza il dito e dice ma possibile in tutti i paesi europei esiste l'anticipazione del prezzo del corrispettivo in Italia causa Tandentopoli causa del fatto che l'anticipazione è stata il simbolo di Tandentopoli si diceva prendi soldi e scappa metti una pietra in cantiere e poi te ne vai non la vedrete mai più d'accordo va bene passano gli anni però il contesto internazionale anche cambia cambia il costo del denaro del credito bancario e quindi ragionevolmente anche il legislatore si fa carico di questa esigenza e nel 2013 con il derito del fare riappare l'anticipazione timidamente al 10% fino a fine anno poi per altri 6 mesi al 20% eccetera bene oggi l'abbiamo a regime a regime quindi per i nuovi contratti c'è l'anticipazione ma è uguale a quella di prima? No? non è uguale a quella di prima perché perché è il 30% scusate il 20% magari il 20% di cosa non del corrispettivo dell'appalto come era prima ma del valore stimato dell'appalto quindi dell'importo a base d'asta e quindi un pochino più capiente di quella precedente si dà con le stesse modalità entro 15 giorni dal cantieramento previa donna idonea fiduzione bancaria eccetera altro principio importante l'appaltatore decade decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione per intero dice il codice se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali più gli interessi la restituisci con gli interessi sacrosanto sacrosanto lasciatemi dire però che c'è un concetto sottostante a questa norma il concetto dell'imputabilità quindi prima che l'amministrazione i roghi all'appaltatore il ritiro il recupero dell'anticipazione la decadenza dall'anticipazione naturalmente deve accertare l'elemento soggettivo dell'inadempimento a mio avviso e quindi instaurare con il medesimo un contraddittorio non esiste un provvedimento unilaterale dell'amministrazione che dice ridammi l'anticipazione perché stai in penale di 10 giorni contratti sottosoglia vi interessano ne vogliamo parlare avete interesse sì vado avanti allora perché questo è uno dei punti di differenza con il codice del precedente nel senso che una delle maggiori diciamo innovazioni riguarda proprio questa fascia di appalti che per i lavori lo voglio dire riguarda l'85% degli affidamenti stiamo parlando dell'85% del mercato cosa cambia l'articolo è il 36 il nuovo codice dice fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie apri una parentesi quali sono le procedure ordinarie quelle aperte cioè quelle a concorrenza piena le aperte e le ristrette quindi fatto sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie cosa possono fare le stazioni appaltanti nel sottosoglia questo allora fino a 40.000 euro via affidamento diretto con adeguata motivazione o addirittura amministrazione diretta cioè in house con i mezzi propri ok tra 40 e 150.000 euro cosa succede negoziata senza pubblicazione di un bando con invito a 5 almeno 5 soggetti oppure in amministrazione diretta sempre in house e tra 150 milioni ricordatevi che sto parlando dei lavori non parlo di servizi e forniture tra 150.000 euro e un milione negoziata senza bando con invito a 10 operatori economici minimo o resistenti e sopra il milione di euro sopra il milione di euro necessariamente con procedure ordinarie ritorniamo a prima aperte o ristrette la negoziata senza bando di questo tipo non c'è quindi ci fermiamo a un milione di euro do un segnale minimo visto che il consigliere Deodato ha guardato anche con grande attenzione alle virgole del codice ecco parlo alle stazioni appaltanti in sala non affidate mai un appalto di importo pari a 150.000 euro perché non si sa che regime abbia cioè o fate 151 o fate 149 è meglio su questo la ANAC deve adottare delle linee guida che credo siano addirittura state pubblicate in questi giorni non sono di natura vincolante su queste il consiglio di stato si è già espresso e sono in via di pubblicazione fino a quel momento cosa succede come si fanno le indagini di mercato come prima quindi non cambia nulla dovranno essere effettuate dalle stazioni appaltanti con avviso pubblico sul profilo del committente oppure ricorrendo ai vigenti elenchi di operatori economici altro punto chiave della riforma aggregazione e centralizzazione delle committenze sono legati attenzione questi due temi sono legati da un filo rosso semplicissimo peraltro dunque indubitabilmente sia il legislatore comunitario che quello nazionale sta andando verso un concetto di aggregazione dei centri di spesa va bene ma come si lega il concetto della qualificazione delle stazioni appaltanti in questo modo più la stazione appaltante risulterà qualificata ai sensi di un sistema che dovrà vedere la luce con una serie di decreti attuativi maggiori saranno i poteri di autonomia di spesa che conserverà quindi più io sono qualificata più posso spendere da sola se non mi qualifico perdo la mia capacità autonoma di spesa è chiaro ecco perché si legano e se la perdo devo andare in centrale è molto semplice vediamo cosa succede allora le stazioni appaltanti non qualificate ma molto velocemente perché immagino siate già stanchi le stazioni appaltanti non qualificate possono fare ciò che vogliono fino a 150.000 euro e sopra i 150.000 euro le non qualificate cosa possono fare nulla nulla devono andare in centrale di committenza oppure aggregarsi con stazioni appaltanti di carattere qualificato di natura qualificata allora vediamo cosa fanno le qualificate fino a 150.000 euro è inutile dirlo tanto quanto le non qualificate ciò che vogliono non devono andare in centrale tra 150.000 euro un milione tra 150.000 euro un milione se si tratta di lavori di manutenzione ordinaria attenzione solo la manutenzione ordinaria non la straordinaria e se esistono degli strumenti telematici di negoziazione CONSIP piattaforme elettroniche di negoziazione anche le stazioni appaltanti qualificate devono ricorrere a questi strumenti elettronici di negoziazione in via autonoma li utilizzano come il MEPA il mercato elettronico se non sono invece esistenti questi strumenti di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate di natura telematica oppure se non si tratta di lavori di manutenzione quindi tutto il resto del mondo diciamo così che cosa succede le procedure ordinarie dai 150.000 euro in su la stazione appaltante qualificata può spendere può spendere e può farlo ricorrendo alle procedure di gara ordinarie oppure fatta sempre salva comunque la scelta di andare in centrale cioè il favor del legislatore verso la centralizzazione resta sempre tutto questo però non è ancora operativo ancora una volta c'è un DPCM che ci dovrà dire come impiantare il nuovo sistema e cosa succede fino a quel momento state tutti tranquilli perché affinché diciamo le amministrazioni possano ritenersi qualificate e quindi agire in questo modo sarà sufficiente iscriversi presso l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti in ANAC io basta che mi scrivo e solo per questo sono qualificata vi dirò poi che questa è una delle maggiori criticità del codice sulla qualificazione non mi soffermo perché i principi li vedremo non è ancora in piedi ve l'ho detto dobbiamo aspettare una serie di atti attuativi è un principio molto importante e molto giusto della legge delega ma anche del codice ad oggi però gli atti attuativi non sono stati ancora emanati per cui è sufficiente l'iscrizione all'anagrafe unica della stazione appaltanti ma ci ritorneremo a fare un attimo perché a mio avviso questo è un vuoto di disciplina assai importante dove si consideri come abbiamo detto inizialmente che le nuove stazioni appaltanti dal 19 aprile scorso o meglio dal 20 sono dotati di ampi poteri discrezionali questo da subito e allora se sei qualificato bene se mi dimostri di sapere gestire questi poteri discrezionali ma se ancora non lo sei qui non lo sa nessuno è sufficiente iscriversi per essere qualificati non è stato superato ancora nessun esame e questo un po' spaventa gli operatori ve lo debbo dire perché la discrezionalità si è usata bene bene ma si è usata male malissimo va bene l'appalto integrato l'appalto integrato adesso vi voglio un po' provocare perché perché sono in casa dei progettisti e vengo a dire che l'appalto integrato lo sapete meglio di me non si può più fare col nuovo codice si va in gara solo sull'esecutivo salvo alcuni casi qualche eccezione tipo l'affidamento a contraente generale la finanza di progetto l'affidamento in concessione verosimilmente il contratto di disponibilità tutti i partenariati i settori speciali e verosimilmente i lavori sui beni culturali al netto di queste ipotesi si va sempre su esecutivo ma ce la facciamo e soprattutto è così giusto allora io non prendo una posizione di carattere associativo perché l'associazione nazionale costruttori ha già preso la sua posizione noi non siamo per la difesa dell'appalto integrato lo dico all'inizio del mio discorso assolutamente no soprattutto quello complesso quando bisognava portare un livello progettuale in gara il vecchio 53 comma 2 lettera C no no però c'è una certa ragionevolezza nelle cose allora voglio dirvi che ad esempio sulle manutenzioni e beh la progettazione esecutiva a base di asta sulle manutenzioni qual è un progetto esecutivo sulle manutenzioni non è facile farlo le cose si fermano le cose si fermano oppure sui beni culturali su beni culturali quando un'impresa entra in cantiere teniamo anche il caso del sisma che ahimè ha colpito il centro Italia e si vede in una chiesa del 300 crollata come si fa a fare un progetto esecutivo di ciò che si deve rifare non ci si arriva non ci si arriva terzo per questo parlo in punta di diritto diciamo per l'Unione Europea l'appalto l'appalto di lavori è un appalto che comprende anche la progettazione è un appalto di esecuzione ma anche di progettazione ed esecuzione oltre che di esecuzione si dice così con qualsiasi mezzo cioè con un subappalto pieno altro tema chiave allora voglio dire non vogliamo parlare di possibile contrasto con le direttive comunitarie anche se ci può stare però forse una maggiore ragionevolezza su alcuni temi si può raggiungere ad esempio sui beni culturali comunque tant'è un altro punto chiave del nuovo codice sono le commissioni di gara e questo nasce da una richiesta del lancio ve lo dico onestamente a fronte diciamo di casi ripetuti di male e cattivo esercizio della discrezionalità in fase di aggiudicazione delle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa abbiamo nel tempo chiesto che i commissari avessero una maggiore terzietà rispetto all'ente appaltante e diciamo alle situazioni locali fatemelo dire così come volevamo un albo presso ANAC volevamo addirittura che l'ANAC sorteggiasse il pacchetto dei commissari essa stessa lo mandasse alla stazione appaltante chiuso risultato per noi già abbastanza accettabile l'ANAC farà una lista di candidati che dovranno iscriversi quindi presso un albo ancora una volta presso l'ANAC e mandati il numero almeno pari al doppio da quelli da nominare sarà la stazione appaltante a sorteggiare il numero finito ci sono delle importanti deroghe tutto il sottosoglia allora mettiamo insieme OEPV so che sapete di cosa sto parlando offerta economicamente più vantaggiosa come criterio unico dal milione in su siamo sempre nel sottosoglia OEPV e deroga ai commissari siamo da capa 12 Presidente cioè nella fascia d'appalto più importante dove si concentra la maggior parte degli importi questa esigenza di trasparenza e legalità viene disattesa oppure gli appalti anche sopra soglia attenzione anche sopra soglia che non presentano particolare complessità e quali sono? Basta poco un'amministrazione a scrivere insomma io ho un'attenzione maggiore su questo tema forse lo metterei qui c'è stata la consultazione dell'ANAC si tratta di linee guida in questo caso vincolanti l'ANAC aveva detto attenzione il Presidente è sempre sorteggiato non ci sono deroghe il Consiglio di Stato ha detto no anche il Presidente può essere diciamo interno e poi sopra il milione di euro e fino a soglia comunitaria forse rendendosi conto anche dell'importante diciamo fetta di mercato che questo rappresenta Cantone ha detto attenzione che il ricorso al commissario interno non è obbligatorio ma è consigliato allora io non mi vorrei trovare nei panni di quell'amministrazione che non segue il consiglio dell'ANAC si sceglie un commissario interno e in gara succedono i pasticci non lo so seguirei tenderei a seguire il consiglio altro punto di snodo fondamentale molto così reclamizzato di questo codice ma lo dico perché in realtà bisogna guardare bene al dato normativo scusate io ripeto sono un avvocato sono una giurista non sono un rappresentante di impresa però i criteri di aggiudicazione criteri di aggiudicazione non c'è più il massimo ribasso c'è solo l'offerta economicamente più vantaggiosa ce lo dice l'Europa dobbiamo solo andare con l'offerta economicamente più vantaggiosa il prezzo più basso non c'è più e no non è veramente così perché se andiamo a leggere le direttive comunitarie per offerta economicamente più vantaggiosa si intende l'aggiudicazione secondo il prezzo o il costo quindi secondo il prezzo o il costo che sono già due concetti e secondo il legislatore comunitario può includere il miglior rapporto qualità prezzo può va bene risultato il codice dice coerentemente che si potrà aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che si basa sul prezzo e lo conosciamo benissimo sul costo e non lo conosciamo per niente perché è una novità oppure sul miglior rapporto qualità prezzo cui aggiungiamo un quarto caso cioè l'opzione di gara con il prezzo congelato cioè solo sull'elemento qualitativo che a mio avviso è un quarto tipo di aggiudicazione di gara il prezzo per i lavori si può usare fino a un milione più basso allora lo voglio chiarire lancia è contro il massimo ribasso quindi pure questo milione ci dà fastidio sia chiaro quello che abbiamo chiesto in parte ottenuto invece è che almeno fino a un milione ma noi stiamo chiedendo fino a due milioni e mezzo di euro ci sia l'utilizzo quasi pressoché preferenziale per non dire obbligatorio dell'esclusione automatica delle offerte anomale con il metodo antiturbativa che è un'altra novità del codice importantissima che devo dire rappresenta un successo anche dell'azione di convincimento di cui ringraziamo chiaramente il governo della nostra associazione mi spiego prima la soglia di anomalia sapete di cosa parlo cioè quel famoso numeretto che denota che le offerte sono anomale cioè sono sospette di essere troppo basse si determinava in un modo solo con lo scarto quadratico medio delle offerte non mi soffermo sul tipo di insomma con il taglio delle ali e l'incremento dello scarto nelle offerte rimaste si fa la media si taglia e fino alla soglia comunitaria sussisteva per l'amministrazione la possibilità di escludere automaticamente tutte le imprese che presentavano un ribasso superiore a questa soglia di anomalia nelle gare invece dove non si applicava l'esclusione automatica quindi dai 5 milioni in su l'amministrazione prima ed oggi oggi non lo può più fare perché il prezzo più basso si ferma a un milione comunque doveva verificare l'anomalia delle offerte questo dicevo ieri domani domani ma dal 20 aprile i metodi per individuare il famoso numeretto sono 5 5 diversi e si estraggono a sorte il giorno della gara questo è il famoso metodo antiturbativa molto simile a quello che ha proposto l'Anci l'Anci ne proporremmo mi pare 3 ma meglio ancora 5 che cosa garantisce molte cose a assenza di turbativa d'asta perché le imprese quando vanno in gara non sanno come si determinerà questo famoso numeretto non si possono mettere d'accordo ok non possono influenzare la media b celerità della gara perché la gara anche se ci sono 300 partecipanti no una volta estratto il metodo e fatto il calcolo si chiude in un giorno verifica quindi snellezza trasparenza ed è per questo che noi riteniamo insufficiente il minuto di euro quale soglia di applicazione di questo metodo a quanto meno fino a 2 milioni e mezzo lo dovremmo poter applicare su questo ci sono anche aperture del governo adesso il sottosegretario si è allontanato però abbiamo avuto ampie aperture sull'ambito temporale di applicazione sto per finire ci siete ancora abbiamo detto tanto solo un punto di così di precisione in più quando si applica sto benedetto codice che non si chiama codice dei contratti come dice giustamente il consigliere devo dato ma questo 50 quando si applica si applica in un primo momento diciamo la norma alle procedure ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del codice oppure per le procedure senza bando quando gli inviti siano stati a presentare l'offerta siano stati promanati dopo l'entrata in vigore del codice ma quando è entrato in vigore del codice prima risposta il 19 aprile ma a che ora alle 22 se ho fatto un bando alle 5 del pomeriggio va rifatto questa è la mia risposta diciamo del MIT e dell'ANAC non me ne abbia il presidente però ragionevolmente invece pochissime ore dopo uno o due giorni dopo hanno chiarito MIT e ANAC che il codice visto che era stato pubblicato in gazzetta alle 22 del 19 aprile ma anche perché testualmente dice questo si applica a tutti i bandi gli avvisi pubblicati dal 20 non c'è più dubbio quindi non c'è bisogno di rifare in corsa i bandi pubblicati esattamente il 19 aprile le abrogazioni l'abbiamo detto se ne va in pensione il 163 ma veramente beh non tutto non tutto vediamo poi perché formalmente sì sostanzialmente no così come il 207 non c'è più il 1000 proroghe non c'è più l'esclusione automatica per i lavori fino a soglia comunitaria non c'è più la possibilità di qualificarsi sui 10 anni nei lavori su un arco temporale pari a 10 anni ma questo anche nei servizi è stato travolto tutto anche su questo il governo ha aperto più volte recentemente per dire che ci sarà per evitare naturalmente gli ultimi anni sono stati più devastanti no? non ci sono state commesse pubbliche quindi essere qualificati sugli ultimi tre significherebbe chiudere la maggior parte delle aziende non riescono ad andare a SOA ovviamente e quindi ragionevolmente riusciremo a dovremmo non sappiamo bene quando ma anche il tempo è una variabile importante perché se lo facciamo troppo tardi parlo al Presidente non troviamo più nessuno quindi noi auspicheremo che quanto prima su questo è un correttivo allora regolamento tutte le norme del punto 2 sono già morte e sepolte tutte le altre del 207 al netto del punto di quelle di cui al punto 2 sopravvivono fino a quando non saranno adottati gli atti attuativi che puntualmente dovranno dirci quali istituti ancora in vigore temporaneamente del 207 dovranno ritenersi definitivamente abrogati in questa corsa forse che è stata più volte descritta ci siamo dimenticati un paio di cosette importanti ve ne dico una che forse è di vostro interesse ad esempio vi ricordate la norma sul direttore tecnico nelle imprese delle SOA che poteva rimanere in impresa anche se non aveva più i requisiti una volta che entrò in vigore l'allora DPR 34 2000 ebbene è una piccola riserva diciamo così indiana che negli anni si è trascinata ma perché giustamente dal 2000 poi l'abbiamo portata nel 207 fino ad esaurimento no? perché che fai metti per strada la gente da un giorno all'altro senza colpa? ecco questa norma è saltata eh signori non c'è più quindi qui ci sono problemi se le imprese vanno a riattestarsi ma comunque lo dovrebbero comunicare devono mandare a casa le persone che senza colpa non hanno i requisiti che gli sono piovuti addosso nel tempo abbiamo detto il 163 abrogato mica tanto eh perché con il comunicato dell'11 maggio 2016 il presidente dell'ANAC ci dice una serie di cose che si continua ad applicare a una serie di casi ad esempio le consegne e lavori dei servizi complementari la ripetizione di servizi analoghi oppure le varianti o anche questa mi ha molto colpito quando c'è stata una gara deserta e si può quindi fare una negoziata senza bando dopo la gara deserta questa procedura negoziata a valle come si fa? col vecchio codice o col nuovo codice? col vecchio codice dice Cantone quindi insomma non è poi del tutto vero che questo 163 sia andato in soffitta definitivamente io qui tra l'altro ho una tabella sinottica diciamo delle linee guida che più da vicino riguardano il settore dei lavori pubblici che lascerò alla segreteria organizzativa di questo convegno così chi vuole potrà vederlo è abbastanza aggiornato quindi lo lascio proprio per non ve lo descrivo anche perché è stato trattato anche negli interventi precedenti ci sono anche decreti del MIT eccoli qua con i vari stati di approvazione dopodiché vi ringrazio per l'attenzione ho finito grazie allora questo dinamico intervento dell'avvocato dottavi dottavi chiedo scusa io direi visto l'orario ho la condizione di proporre un'interruzione ma sembra che siamo già avanti come affrontiamo l'argomento del della della progettazione fatto il decreto in sia di perfezionamento il decreto ministeriale do immediatamente la parola al detto d'Antonio che è stato membro della commissione insieme all'ingegnere Ferrante che ha delineato l'assetto di questo decreto importante che ha delineato dottavi e anche delle novità codice detto d'Antonio e poi immediatamente a Elisabetta grazie buonasera a tutti ringrazio anch'io i promotori e gli organizzatori del convegno e entro subito nel merito dunque le nuove norme sulla progettazione in materia di lavori pubblici che entreranno in vigore con l'emanazione di un decreto interministeriale diciamo andranno quindi a sostituire come dicevamo la parte del regolamento 207 del 2010 in materia di progettazione con esclusione della parte che riguarda i lavori sui beni culturali che saranno oggetto di un altro decreto in questo caso di competenza del ministero dei beni culturali di concerto con il ministero delle infrastrutture e con il ministero dell'ambiente invece il decreto di cui parliamo oggi è formulato quindi su proposta del consiglio superiore e sarà emanato come decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dei beni culturali e con il ministro dell'ambiente attualmente per quanto riguarda l'iter procedimentale è pressoché ultimata la fase di concertazione con gli altri ministeri però il decreto prima di essere emanato sarà sottoposto al parere del consiglio di stato anche se ciò diciamo non era necessario per la procedura prevista dal codice però si è ritenuto comunque opportuno sottoporlo al parere del consiglio di stato così come si ricordava prima avvenuto e avviene anche per le linee guida dell'ANAC allora quindi dicevamo che la maggiore novità del nuovo decreto sulla progettazione riguarda appunto il progetto di fattibilità tecnica e economica che costituisce il primo livello della progettazione per cui con il decreto i livelli della progettazione sono ancora tre come nel vecchio regolamento però diciamo con una articolazione e dei contenuti decisamente innovativi soprattutto per quanto riguarda appunto la prima fase cioè quella del progetto di fattibilità e il progetto di fattibilità tecnica ed economica che va a sostituire quindi il livello del progetto preliminare ma anche il livello dello studio di fattibilità che non è più diciamo ricompreso nelle nuove norme sulla progettazione diciamo quindi l'importanza del progetto di fattibilità è evidenziata innanzitutto dal codice stesso all'articolo 23 ma anche poi ancora di più dal nuovo diciamo decreto che evidenza il fatto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica ha proprio la finalità di analizzare tutte le possibili soluzioni progettuali alternative che possono essere adottate per la realizzazione di un'opera o di un intervento il progetto di fattibilità ha quindi lo scopo di analizzare più soluzioni alternative e compresa anche la cosiddetta opzione zero cioè la non realizzazione dell'intervento che deve essere sempre tenuta presente nell'ambito delle alternative individuate occorre quindi prescegliere quella che come richiede il codice presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire nonché molto importante rispetto al contesto territoriale ambientale e paesaggistico in cui l'intervento si inserisce e agli effetti che tale intervento produce sull'ambiente quindi come si diceva una particolare attenzione proprio anche per gli aspetti ambientali intesi in senso globale quindi non solo paesaggistici ma anche diciamo geologici geotecnici sismici eccetera proprio in relazione appunto diciamo a questo concetto si evidenzia infatti nel decreto che il progetto di fattibilità deve tenere conto dei principi di sostenibilità territoriale ambientale nonché della sicurezza dell'opera nei confronti delle pericolosità naturali e antropiche e della sicurezza funzionale per il perseguimento di queste finalità secondo quanto stabilito dal nuovo decreto il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento e degli esiti delle indagini geologiche idrologiche idrauliche geotecniche sismiche finalizzate alla progettazione dell'intervento nonché della verifica preventiva dell'interesse archeologico e dello studio preliminare ambientale e paesaggistico il livello di approfondimento di queste indagini deve essere tale da garantire già quindi in questa fase affidabilità della stima dei costi e dei tempi di realizzazione è quindi la prima volta che nel primo livello di progettazione vengono inserite già le indagini quindi la finalità è quindi quella di arrivare a far sì che il progetto di fattibilità rappresenti già il livello in cui deve essere effettuata la scelta della soluzione progettuale valutata come la migliore tra tutte le possibili alternative che dovrà essere poi sviluppata nei due successivi livelli del progetto definitivo e dell'esecutivo in modo da non subire variazioni sostanziali e quindi il progetto di fattibilità assume una funzione strategica essenziale nell'ambito del processo di progettazione proprio ai fini del perseguimento della qualità della progettazione ciò determina però il fatto che il progetto di fattibilità risulta indubbiamente molto complesso e anche molto impegnativo sotto il profilo economico per questo nello schema di decreto è stata prevista la possibilità di articolare la fase il livello quindi del progetto di fattibilità in due fasi oppure in un'unica fase di elaborazione ovviamente anche in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento una premessa ovviamente tutto ciò che stiamo esponendo si riferisce quindi allo schema di decreto attualmente elaborato quindi ci potrebbero essere poi ovviamente delle modifiche sul testo comunque diciamo che il testo attuale prevede quindi la possibilità di articolare questo primo livello in due fasi la prima fase che viene denominata documento di fattibilità delle alternative progettuali è quella in cui vengono esaminate le diverse alternative progettuali e quindi il progettista sulla base delle analisi di fattibilità effettuate dà conto della valutazione di ciascuna alternativa sotto il profilo qualitativo tecnico e economico e propone l'alternativa progettuale da sviluppare nella successiva fase di progettazione quindi nel definitivo in quanto presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività come richiesto dal codice nel caso di elaborazione e quindi diciamo il documento di fattibilità si conclude appunto con la proposta da parte del progettista di quella che lui ritiene la migliore soluzione mettendo però allo stesso tempo a disposizione dell'amministrazione un ventaglio di soluzioni alternative qualora invece il progetto di fattibilità venga elaborato in un'unica fase la prima parte è uguale nel senso appunto che il progettista individua ed analizza tutte le possibili soluzioni alternative e valuta quindi quella che secondo di lui è la migliore in base ai parametri che abbiamo richiamato dopodiché lui stesso ha portato avanti la progettazione sviluppando tutti gli elaborati richiesti per il progetto di fattibilità e quindi poi ovviamente alla fine lo propone all'amministrazione diciamo che in questo modo abbiamo quindi delineato qual è la sequenza dei livelli di progettazione quindi ripetiamo essenziale il fatto che comunque i livelli di progettazione sono tre perché appunto il primo livello è quello del progetto di fattibilità la possibilità di articolarlo è legato all'articolazione in due fasi con l'inserimento o meno del documento di fattibilità delle alternative progettuali che non costituisce però di per sé un livello diciamo che altre innovazioni diciamo che anzi più in generale il progetto definitivo e il progetto esecutivo sono trattate invece diciamo con una diciamo articolazione di contenuti più simile a quello del previgente regolamento in questo caso si è fatto quindi essenzialmente un lavoro di revisione integrazione e ricuscitura del testo in molti punti per aggiornarlo anche in relazione alle nuove normative emanate nel frattempo ad esempio le norme tecniche per le costruzioni le norme ambientali le norme in materia archeologica e allo stesso tempo anche perché si è ritenuto importante inserire anche tutta diciamo il riferimento a tutta una serie di elaborati e di relazioni che devono far parte del progetto definitivo e esecutivo ma che in base a altre normative di settore ma che non erano esplicitamente richiamate nel regolamento e quindi spesso venivano disattese quindi con la necessità poi di richiedere atti integrativi allungando quindi il procedimento invece diciamo in questo caso sono state tutte esplicitamente inserite mi riferisco ad esempio alla relazione antincendio alla relazione acustica alla relazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ecco concluderei quindi il mio intervento lasciando la parola al collega del consiglio superiore ingegnere Ferrante grazie grazie Elisabetta un ringraziamento all'architetto D'Antonio che ancorché non è in ottima forma a seguito di questi sbalzi di temperatura ci teneva a essere qua e la ringrazio un commento rapidissimo poi la parola al collega Andrea che rapidissimamente andiamo in conclusione è una forte novità dal punto di vista di approccio strategico sul progetto il progetto di fattibilità che non ha nulla a che vedere con lo studio di fattibilità e invito gli ingegneri a vederselo e studiarlo bene perché cambia un po' tutta l'impostazione diventa un documento molto denso di atti e molto denso di significato tecnico in cui vengono fatte le scelte strategiche dell'intervento che si deve realizzare che è un po' un'innovazione e ritengo un'innovazione importante Andrea te la parola grazie presidente un saluto a tutti vorrei cercare in un modo complementare evidentemente a quello che già la collega archietto d'antonio ha presentato offrire degli spunti di ragionamento sulla portata direi concettuale metodologica delle novità introdotte dalla proposta di decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 23,3 del codice e questa prima lastrina in realtà non è inerente la trattazione è semplicemente la mappa delle possibilità di fare contratto pubblico di lavori la figura dell'appalto così come si è semplificata con la unica possibilità di accedere alla gara mediante esecutivo la figura del general contractor e poi le forme di partenità pubblico privato mi piacerebbe che ci potesse soffermare su questi aspetti tuttavia il tempo è stretto e lascio magari all'immaginazione vostra di comprendere quali sono le figure giuridiche sottese in partenità pubblico privato dove con caldo e freddo come i rubinetti vi ricordate quei vecchi rubinetti vintage con il rosso dell'acqua calda e il blu dell'acqua fredda distinguiamo le forme di partenità pubblico privato di tipo caldo cioè dove la prestazione per conto del soggetto privato che concorre in conto capitale a finanziare una parte dell'opera è quella di affrontare poi il rischio di domanda di quelle infrastrutture che realizza in partenità pubblico privato tipicamente un tratto di autostrada piuttosto che un parcheggio multipiano dove invece per modalità fredda si intende quelle opere non suscettibili di remunerazione ma per le quali deve il soggetto privato assicurare prestazioni quindi un obbligo di prestazioni dietro i quali la parte pubblica eroga un canone in questa cornice generale salto anche questa lastrina della contrattualistica pubblica si colloca sicuramente proprio come incipit le fasi di programmazione e progettazione che trovano evidentemente all'inizio cioè nei primi passi della progettazione un momento di ingranamento concettuale con la programmazione allora a monte di programma e progetto c'è la pianificazione io parlo di un linguaggio chiaramente per molti scontato però vedo giovani e quindi mi piacerebbe pensare che il principio delle tre P pianificare programmare progettare sia chiaro e inequivoco c'è un sistema composito di pianificazione territoriale urbana settoriale nel nostro paese che delinea il dominio delle possibili trasformazioni territoriali del nostro paese indicando anche i limiti e vincoli all'interno di questo dominio di possibilità di trasformare il nostro territorio in maniera sia auspica sostenibile nascono come dire ingranano le programmazioni dei soggetti pubblici aventi capacità di spesa stazioni appaltanti o nel caso di soggetto pubblico amministrazioni aggiudicatrici la programmazione ha di fatto il momento fondamentale nel programma triennale qui nessuna novità programma triennale che si fa tutti gli anni lo dico ai giovani non vi inganni la parola fatto a scorrimento ogni anno per i prossimi tre anni e per i lavori dell'anno prossimo c'è l'elenco annuale quindi io ogni anno 2016 faccio elenco annuale dei lavori che intendo realizzare nel 2017 e programma per quelli del 2018 2019 questa ogni anno programma triennale qua non c'è nessun elemento di novità tra vecchio codice e nuovo codice cosa ha cercato di evidenziare con quei box di color rosso quelli che sono spazi che il codice o il 50 chiamiamolo come volete lascia liberi affinché debbano essere in qualche modo riempiti e la proposta di consiglio superiore prima descritta da architetto d'Antonio provvede proprio a questo affinché ripeto quei passaggi che il codice concettuali metodologici mi verrebbe da dire anche cronologici che il codice lascia liberi siano occupati da atti che vanno definiti allora intanto c'è una necessità quindi sto parlando di chi legge oggi il codice agli articoli 21 e 23 perché con il 21 si legge la programmazione con il 23 i livelli di progettazione e ragiona cum granosalis da ingegnere civile da architetto adesso parlo proprio dell'approccio tecnico e individua il fatto che c'è l'esigenza di un momento prima della programmazione in cui siano definiti gli obiettivi della programmazione chiamatela come vi pare pre-programmazione definizione degli obiettivi e c'è una prima esigenza la mettiamo al numero 1 poi c'è un'esigenza e anche qui il 50 non ci dice nulla e quindi quello spazio va riempito su quale sia il documento da redigere per iscrivere un intervento in programma triennale perché fino a ieri ecco il 163 quello spazio di cui al numero 2 c'era una risposta studio di fattibilità mi verrebbe da dire anche per semplificare anche qua per dare una lettura concettuale cos'è questa articolazione programma triennale elenca annuale diciamola in maniera semplice inserisco in programma triennale ciò che è meritevole di essere progettato inserisco in elenco annuale ciò che è meritevole di essere realizzato sono due cestini due contenitori che si ingranano una pressa all'altro è chiaro che ho bisogno di un'ingegneria ecco perché c'è come dire in questa fase in contemporanea la progettazione che assiste la programmazione c'è bisogno di scelte tecniche a supporto dell'identificazione degli interventi al fine del loro inserimento nel programma triennale c'è poi numero 3 un'esigenza con cui la stazione appaltante amministrazione giudicatrice sulla base della definizione di quell'intervento inserito in programma triennale possa impartire le proprie indicazioni direttive questo lo fa il RUP e se vi ricordate bene nel 163 con il regolamento di attuazione questo veniva fatto dal documento preliminare alla progettazione e infine lo spazio in fondo in basso a destra non è rosso ma ha come dire un colore proprio perché il codice ci dice guarda che per quanto riguarda gli interventi da inserire in elenco annuale superiori a un milione di euro occorre redigere il progetto di fattibilità tecnico ed economica appena prima discusso cosa molto simile per il caso dei lavori sotto il milione di euro dove però siccome il codice ci dice che sotto il milione di euro non è necessario fare il progetto di fattibilità per inserimento in elenco annuale anche qui c'è uno spazio da riempire la domanda è qual è quindi il documento tecnico per inserire un intervento in elenco annuale sotto il milione di euro quindi questa seconda lastrina non è altro che il caso specifico dei lavori sotto il milione di euro la risposta per meglio dire la proposta del consiglio superiore come correttamente è stato detto perché trattasi di proposta recepita sicuramente adottata dall'amministrazione e che dovrà poi fatte le intese anzi i concerti con i ministeri competenti ambiente beni culturali e ambientali poter poi essere sottoposta ci auguriamo presto al parere consultivo del consiglio di stato allora quel primo spazio quel blocco rosso all'inizio dove si parlava di il modo in cui vado a definire gli obiettivi della progettazione l'abbiamo chiamato quadro esigenziale il quadro esigenziale individua pertanto a partire dall'analisi dei fabbisogni dei differenziali infrastrutturali per quella specifico territorio che può essere l'autorità portuale di Civitavecchia piuttosto che il Comune di Roma che fa il proprio programma triennale ma non solo individua fabbisogni individua gli obiettivi della programmazione e i requisiti prestazionali che dovranno essere traguardati dalle scelte strategiche conseguenti a questo punto nasce quella necessità a cui prima si faceva riferimento che il progetto di fattibilità che è il vero punto fisso del 50 stante la sua natura bifasica perché è stato ben detto prima c'è una prima fase di scelta del tipo di intervento che persegua gli obiettivi di cui è il quadro esigenziale una seconda parte che definito mediante comparazione tra alternative strategiche il tipo di intervento si possa poi provvedere al progetto mi vorrebbe da dire concettualmente al vecchio progetto preliminare non senza però aver messo una chiara enfasi sul momento della scelta comparata tra strategie di intervento bene laddove il progetto di fattibilità fosse redatto in modo bifasico il documento di fattibilità che non altro che è una costola enucleata dal progetto di fattibilità questa è la proposta del Consiglio Superiore può essere il documento a corredo del programma triennale in quel documento di fattibilità che non è altro che la prima parte del progetto di fattibilità avviene appunto la scelta comparata tra strategie di intervento infrastrutturale alternative a parità di perseguimento degli obiettivi e dei requisiti prestazionali e nascono strumenti a supporto delle decisioni da multicriteri nei casi semplificati alla costi benefici come strumento di comparazione nei casi più complessi perché vi dico che la norma ci dice sopra 10 milioni di euro il documento di fattibilità ha una suonatura per così dire più completa sotto semplificata se invece l'intervento è imperteneato al pubblico privato a prescindere dalla soglia va fatto in maniera completa quindi in quel momento di scelta di confronto comparato l'analisi costi-benefici nei casi più complessi la multicriteri nei casi più semplificati è lo strumento a supporto delle decisioni per l'identificazione della strategia di intervento che persegue gli obiettivi del quadro esigenziale c'è poi un momento di snodo concettuale e cioè che il RUP a questo punto a fronte della proposta di colui che ha redatto il documento di fattibilità il quale a suo modo con un ragionamento di natura tecnica ha scelto quello che ritiene la soluzione ottimale recepisce questa soluzione e la fa propria e quindi da luogo a un documento di indirizzo della progettazione di cui l'articolo 3 dello schema di decreto che chiaramente è stretto fratello del vecchio documento preliminare dove però a mio parere il cambio di dizione risulta essere più incisivo che non trattasi come prima poteva pensarsi di una sorta di attività pre-progettuale dove purtroppo la parola preliminare poteva essere equivocata questo è un documento in cui si coordina il progetto e non si progetta chi lo fa? Lo fa il RUP che coordina la progettazione e la supervisiona ma non è progettista anche qui quindi sulla base della scelta di intervento ritenuto complessivamente migliore nel documento di fattibilità nasce un indirizzo di sviluppo del progetto la scelta del livello di progetto su cui si farà gara d'appalto la modalità dell'appalto il criterio di aggiudicazione che comunque fa in automatico perché se sopra milioni di euro è l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché indica il RUP il corredo degli elaborati tecnici e grafici che rispetto all'elenco tipo tipizzato standard dello schema di decreto debbano essere elaborati sulla base del caso per caso proprio a personalizzare l'elenco tipo degli elaborati va da sé quindi che faccio un ragionamento in più che rispetto alla possibilità che da quel momento in poi dal documento di indirizzo della progettazione possa poi nascere un appalto pubblico di servizi per trovare sul mercato una società di ingegneria o società associate che possano redigere nome per conto dell'amministrazione il progetto è chiaro che il documento di indirizzo della progettazione costituisce una sorta di documento tecnico del capitolato reggente il futuro contratto pubblico di servizi tra la stazione appaltante e il soggetto erogatore del servizio di ingegneria e di architettura fino ad arrivare ripeto e completiamo anche qui questa architettura concettuale al progetto di fattibilità che sarebbe in questo caso di redazione in due fasi la seconda fase del progetto avendo esaurito la prima fase a livello di programma triennale segue quindi una serie di ragionamenti Presidente adesso so che il tempo è stretto che ritengo che è possibile fare magari in un altro momento però mi preme un ultimo aspetto concettuale molto importante a mio modo di vedere che è questo esiste sicuramente questa grande novità l'ha detto prima Architetto D'Antonio di un sostanziale anticipo del pacchetto di studi indagini e rilievi a livello di progetto di fattibilità qual è la razio sottesa da questa previsione normativa che è la previsione del codice che poi lo schema di decreto recepisce è quello di andare a sviluppare in particolare nel progetto di fattibilità tutte quelle attività inerenti aspetti che poi potrebbero risultare estremamente variabili nello sviluppo della progettazione al punto da determinare inopinati extra costi mi riferisco in particolare al fatto che oltre evidentemente alla conferma dell'inquadramento geologico d'insieme c'è la grande novità ce ne parlerà professoressa Montrasio dell'anticipo dell'indagine geotecnica a livello di progetto di fattibilità perché se nel progetto di fattibilità vado a individuare le tipologie strutturali e funzionali di un'opera va da sé che anche la tipologia fondazionale va evidenziata e anche questo sulla base non di un'interpretazione geologica d'insieme ma di un modello geotecnico del terreno derivante da indagini geotecniche appositamente realizzate ma oltre a questo geologia geotecnica conferma della verifica preliminare di interesse archeologico anche qui il terreno come possibilità di sorpresa di natura archeologica censimento delle interferenze perché ricordo che la conferenza dei servizi si fa sul preliminare e la vicenda del superamento delle interferenze da sottoservizi va risolta a livello di progetto di fattibilità anche questo quindi è un problema del terreno non geotecnico ma di preesistenze e infine altra novità che trovo assolutamente condivisibile che va verso questo ragionamento di fondo cioè quello di fare in modo che poi la stima economica del progetto di fattibilità sia salda sia solida ultimo elemento anticipare non già lo studio di impatto ambientale che va redatto ovviamente per le opere sottoposte secondo la direttiva europea soltanto va redatto a livello di progetto definitivo quanto di anticipare in uno studio preliminare ambientale anticipare già la natura di talune opere di mitigazione e compensazione che se virgolette progettate ex post a livello di definitivo potrebbero portare evidentemente anche qua a extra costi non preventivati a priori vi ringrazio per l'attenzione grazie Andrea l'ultimo sforzo la professoressa Lorella Montrasio che è stata l'ufficiale collegamento fra l'università e il consiglio superiore e andiamo alla conclusione che ci rappresenterà un punto di estrema attualità voi non sapete che c'è tutto un dibattito per quello che riguarda le norme tecniche sul rapporto antico geologia e geotecnica Lorella ci rappresenta questo aspetto e do la parola per l'importanza del corretto pianificazione delle indagini sul terreno nel progetto di fattibilità Lorella prego grazie presidente come è stato ampiamente citato soprattutto dagli interventi dell'ingegner Ferrante e dell'architetto D'Antonio appalti prevede che nel progetto di fattibilità gli aspetti legati alla conoscenza del terreno siano sufficientemente approfonditi da evitare questo rischio di sorpresa geologica che tanto ha rappresentato poi le questioni legate a varianti in fase di progettazione ed esecuzione successiva l'importanza della geotecnica quindi diviene ancora più rilevante essendo essa la disciplina ingegneristica che si occupa del terreno dalla pianificazione delle indagini all'interpretazione dei risultati delle prove di ricavare i parametri caratteristici necessari per le diverse delle verifiche previste da normativa il terreno è elemento centrale nella progettazione sempre non si sente? elemento centrale nella progettazione sempre qualunque opera di ingegneria civile qua ne vengono rappresentate un sacco sia monumentale ordinaria di grande rilevanza di ambito edile idraulico trasportistico si fonda sul terreno che pertanto ne è sempre parte integrante il terreno è anche il materiale di cui sono costituite opere in terra e ovviamente rappresenta a pieno titolo i pendii quindi qualunque scusate il ruolo del terreno quindi nell'ingegneria civile è fondamentale fornisce da un lato la resistenza e la rigidezza necessarie alla stabilità e alla distrazione dei movimenti che sono presentati da secoli è apportatore però anche di cose cattive quali il sisma e i movimenti franosi ma è anche poi d'altro canto utilizzabile per rinforzo dei terreni e delle strutture in elevazione che vi stanno quindi ha un ruolo veramente centrale nell'ingegneria civile è fondamentale quindi attribuirgli e gli ingegneri questo non sempre lo sanno o lo percepiscono la massima attenzione in fase di progettazione e di verifica per evitare conseguenze negative sulla stabilità e la funzionalità di opere realizzate ed esistenti altrimenti le conseguenze spesso possono essere catastrofiche non sempre questo avviene o è avvenuto perché le ragioni sono diverse la prima è che la geotecnica cioè il terreno è difficile da trattare è un elemento complesso dal punto di vista del comportamento non è elastico non è lineare è viscoso isteretico il suo comportamento dipende dal confinamento è anisotropo nessun altro materiale da costruzione peraltro noto normalmente a priori da parte del progettista mentre il terreno non lo è ha una modellazione e un comportamento altrettanto complicati quindi la disciplina è difficile interagisce con l'acqua al terreno che può essere inquieto in moto rendendo ulteriori complicazioni al suo diciamo alle risposte che vengono date in termini ingegneristici l'acqua può saturarlo rendere quindi saturo il terreno o parzialmente saturo se parzialmente saturo il suo comportamento è completamente diverso e quindi abbiamo veramente a che fare con un materiale ostico da trattare non ultime le tecnologie costruttive interagiscono con la progettazione geotecnica con il ruolo del terreno che complicando anche la fase di pianificazione delle indagini che ne dipende oltretutto ultimo ma non ultimo il sottosuolo non è noto a priori come dicevo poco fa quindi occorre creare quello che per una trave esiste già cioè la sua geometria le sue caratteristiche meccaniche del materiale di cui è costruita una trave sono note a priori il sottosuolo non lo è quindi corre creare il cosiddetto modello geotecnico ovvero l'equivalente di un sistema strutturale di geometria caratteristiche meccaniche note su cui basare la progettazione definire il modello geotecnico richiede pianificazione esecuzione interpretazione dell'indagine in sito e di prove di laboratorio e ciò però va focalizzato cioè non può essere non può prescindere dalla conoscenza della geotecnica e della meccanica delle terre che evidentemente sono frutto di una formazione tipicamente ingegneristica e è proprio la formazione ingegneristica che diamo sui banchi delle aule universitarie quella che produce l'ingegnere progettista che partendo dalla matematica e dalla fisica passando attraverso la meccanica razionale la scienza delle costruzioni e l'idraulica e la tecnica delle costruzioni arriva poi a fornire le basi sufficienti e adatte ad affrontare la geotecnica che non può prescindere da tutto questo impalcato costrutto che costituisce la formazione ingegneristica e sulla base di questo poi l'ingegnere può fare le scelte adeguate in fase di pianificazione di indagini di caratterizzazione meccanica dei terreni per contro ecco è facilissimo se a scuola all'università abbiamo imparato dovremmo essere no perché la disciplina purtroppo è molto giovane a parte questa estemporanea intuizione di Coulomb nel 1773 che si è progettato un muro di sostegno così facendo un excursus molto antico su quello che poi sarebbe diventata la geotecnica moderna essa è nata con Terzaghi all'inizio del XX secolo quindi cent'anni dopo la meccanica del continuo che tutti gli ingegneri riconoscono come fondamento delle basi moderne dell'ingegneria civile e in Italia è stata introdotta per la prima volta in ambito universitario da Croce a Napoli negli anni 50 ha iniziato a diffondersi negli anni 60 quindi è una disciplina veramente molto molto recente che ha subito pertanto e ancora sta subendo delle difficoltà nell'essere recepita come propria da parte dell'ingegnere civile poi ci sono stati progressi ancora più recenti di cui è stato anche responsabile il professore con cui ho collaborato al Politecnico di Milano ormai troppi anni fa che hanno sicuramente reso la disciplina alla stregua della scienza delle costruzioni e delle tecniche di costruzione e questo l'ingegnere civile lo deve ormai recepire facendo propria una disciplina che per troppo spesso è stata demandata da altre il terreno quindi con le sue complessità rende necessaria una formazione ingegneristica per affrontare correttamente gli aspetti della progettazione che lo riguardano dalla pianificazione delle indagini alla definizione dei parametri caratteristici allo sviluppo delle verifiche la giovinezza della geotecnica e ritardo nella sua diffusione ha talvolta reso possibile che nell'ambito della progettazione gli aspetti legati al terreno fossero demandati e affrontati o affrontati senza le adeguate basi di conoscenza ingegneristica con conseguenze spesso molto gravi ciò deve essere oggi più che mai superato e il progettista ingegnere è responsabile perché poi è colui che paga in solido in sede mi dite processuale giusto essere pienamente consapevole delle competenze che gli competono in ambito geotecnico quali vie uno è la diffusione della cultura della disciplina naturalmente nei corsi universitari con conseguente miglioramento della formazione geotecnica dei funzioni dei futuri ingegneri con gli aggiornamenti professionali da parte degli ordini e stanno molto lavorando il tempo contribuirà positivamente a amplificare questi effetti benefici certamente la normativa può essere un motore propulsore di ciò è il nuovo codice degli appalti con questo aspetto legato alla fase iniziale del progetto di fattibilità che prevede appunto di dare molta più attenzione di quanto non avvenisse precedentemente agli aspetti delle indagini lo fa e quindi va nella direzione giusta così come le norme tecniche per le costruzioni che sono in interde approvazioni che sono state rese certamente più semplici facilmente unicamente interpretabili come abbiamo discusso anche un anno fa che sono in inter di approvazione ma che è indispensabile che termini il loro iter quanto prima vi ringrazio per l'attenzione complimenti alla rapidità e all'efficacia dell'intervento della professoressa Montrazio sono le 17.20 innanzitutto ringraziamento al pubblico che con perseverante attenzione ha tenuto come possiamo dire la presenza su argomenti non facili e complessi una battuta il decreto progettazione che è stato rappresentato oggi credo che sia la prima volta che viene rappresentato è una novità che viene rappresentato in pubblico è una proposta che sta facendo vediamo un attimino il perfezionamento il perfezionamento però è stato un prodotto insomma dibattuto e ritengo che consenta di avere una procedura una filiera nel settore della progettazione coerente anche con lo spirito del codice e con le innovazioni che sono state poste due battute e poi se qualcuno vuole intervenire vediamo un attimino rapidissimamente perché poi credo io con i miei colleghi dobbiamo andare rapidamente alla stazione dal dibattito di oggi che come ha detto prima il consigliere è rappresentato un po' tutti gli attori che hanno contribuito e che dal punto di vista istituzionale hanno un ruolo nella formazione della articolata architettura giuridica amministrativa tecnica abbiamo potuto vedere ed è occasione anche per me confrontarmi e confrontarci insieme che sicuramente il codice porta degli aspetti molto positivi ha pagato questa lunga gestazione nelle due camere portando il governo a fare l'atto in poco tempo tutte le cose che poi si fanno di fretta su un tema così complesso articolato forse è uno dei più complessi perché poi gli attori sono vari porta delle difficoltà è indubbio però che ci sono delle importanti positività tutto è perfettibile e ritengo che con una serie di aggiustamenti avremmo una architettura efficace che consenta di realizzare che come ho detto a un convegno di guardare all'obiettivo che è quello dell'opera pubblica produrre opere pubbliche rapidamente con efficienza e trasparenza detto questo c'è qualcuno a fare un intervento vedo che siete tutti soddisfatti e questo non può che farci il piacere allora vi ringrazio tutti ringrazio tutti i relatori e auguro a tutti una buona serata grazie per l'attenzione grazie a te grazie a te